ed eccomi qua finalmente ovviamente questa volta l'equipaggiamento dovrebbe funzionare alla perfezione ho computer nuovo senza badare a spese e soprattutto ho rubato a mia madre la fibra l'ho fatta togliere da casa sua per metterla nella mia seconda location è molto contenta la mamma e non aveva più il telefono di casa e adesso quindi dovrebbe funzionare tutto per bene abbassiamo un po' l'audio ecco qui buonasera a tutti mi chiedete subito cosa ho comprato ve lo dico subito ho fatto affrancare una botta di etf tutti gli etf che avevo in almeno 10% di guadagno li ho fatti affrancare vuol dire che ho già pagato le tasse però solo al 14% quindi a questo punto posso vendoli abbastanza in scioltezza sì sono in orario stavolta stavolta mi sono imposto devo essere a casa e pronto alle 19.15 non è possibile che arrivassero le live in ritardo ho fatto affrancare gli etf e quindi ne ho venduti una botta poi a seguire soprattutto ho venduto quelli americani adesso chiaramente ho il portafoglio che non ha più una quasi più roba americana devo ribilanciare però sul conto perché ho vari conti sul conto in cui ho fatto gli affrancamenti più massicci e purtroppo o per fortuna no purtroppo ho delle forti minus valenze e quindi devo comprare azioni e comprerò azioni americane vi dico anche subito i spoiler subito qua le Berkshire Hathaway che è come avere un etf poi comprerò le big tech perché devo mirare a fare plus valenze nel giro di 2-3 anni per compensare le minus potrei anche farlo con i certificati ma preferisco tentare di farlo con le azioni tecnologiche americane poi comunque devo comprare titoli americani perché adesso sono sbilanciato e non ho più l'America in portafoglio ho anche vi annuncio venduto metà del Messico il Messico proprio in anteprima venduto metà del Messico perché era cresciuto così tanto che mi sono trovato un attimo troppo Messico va bene e poi comunque avevo affrancato anche in parte quello quindi ho venduto un po' a spazzolo però attenzione perché sono stato bloccato siccome lo svantaggio di usare banche locali il vantaggio è che hai un rapporto umano e puoi sempre protestare e chiedere lo svantaggio è che beccata a fare 16 anni di ferie su 20 anni di lavoro effettivamente potrebbe essere un'idea io sono in vacanza da una vita e il problema però di oggi pomeriggio e non ho potuto comprare alla fine niente è stato che lo svantaggio di usare banche locali è che c'è pochissima gente che fa acquisti come li faccio io cioè va sulla borsa di New York va qua va là e quindi c'è stato un intoppo burocratico che mi ha fermato mancava un foglio firmato va in banca firma il foglio aspetta due o tre giorni quindi tra due o tre giorni vedrete il mercato americano che sale a razzo perché io compro azioni come un pazzo ok comunque queste erano le novità quindi venduti un po' di ETF a sparpaglio soprattutto quelli affrancati venduto il Messico in parte in parte e venduto pesantemente l'America ma solo per poi ricomprare le azioni relative tanto sappiamo tutti che lo standard and poor è praticamente le prime azioni e soprattutto Berkshire Hathaway è come avere quasi un ETF e c'è il video sull'affrancamento giusto? certo però l'affrancamento va chiesto dentro il 30 quindi ancora due giorni di tempo per chiederlo e azioni Venezuela adesso vabbè Israele Israele ci potevo fare un pensierino però già mi girano un po' le scatole che ho comprato in Sudafrica e non sta andando proprio benissimo come faccio a farmi analizzare il mio portafoglio? beh per oggi mi sa che sono già pieno zeppo comunque youtube chiocciola paolocoletti.it ah accidente vorrei iniziare così vi piacerebbe una live senza problemi tecnici e finalmente ce l'avete una bella live in cui computer nuovo senza vadare a spese fibra rubata a mia madre che adesso è senza telefono di casa perché ho fatto trasferire da Wind la fibra qui e quindi live perfetta come vi piacerebbe analizziamo subito i portafogli perché sono tanti e pa 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 eccomi qua Pakistan adesso vabbè non suggeritevi cose così bizzarre abbiate pietà ok ecco qui allora ho preso i portafogli che mi sono stati mandati e prima il mio portafoglio devo mettere il bimbo a dormire abbiamo pure le preferenze vabbè andiamo sul portafoglio di Luca allora il portafoglio di Luca vediamo se lo trovo è questo allora ho cambiato i vostri nomi ho tenuto le iniziali uguali quindi Luca dovrebbe essere Luisa Mandorlato ho cambiato il nome e il sesso contenti? così sembra che abbiamo tanti utenti donne in realtà non abbiamo manco mezzo vediamo scusate i problemi tecnici no adesso non giusto ok il portafoglio attuale è stato creato circa un mese fa prima che scoprissi i tuoi video mi è stato consigliato la consulente della banca Sella oh banca Sella io la stimo ma adesso che vedrò il portafoglio la stimerò meno e chiedo umilmente grazie alla live perfetta per eventuali erroracci ok linea di massima bot BTP obbligazioni e il fondo d'emergenza il resto è un investimento a 10 più anni non cerco di andare in pensione prima inoltre ho creato un fondo pensione per quanto riguarda 67 anni ci metti 1200 euro all'anno braccino corto eh al momento sono in between jobs quindi non faccio stime ma il mio salario è stato sui 40k si potrebbe mettere un po' di più Luca? dai mettiamoci secondo me se ritieni che ti conviene allora ci metti tutti i 5000 che sono già pochetti eh lo sponsor della della sessione è il negozio compro euro di Rovereto che oggi mi ha fatto un'intervista è famoso il negozio compro euro di Rovereto comprano euro e danno bitcoin e ok portafoglio attuale di Luca BTP febbraio 37 a 4% ok sai che questo in realtà non è stabile perché ogni aumento di tassi questo BTP si affossa di non so quanto quindi non è che questi 10k sono 10k come in un contodeposito poi le donne spendono quello che gli uomini risparmiano in realtà dai abbiamo sono aumentate le donne adesso col BTP valore sono aumentate siamo quasi al 9% di utenti donne ci facciano live domattina per comprare BTP Italia giugno 30 dai davvero ah è vero tra l'altro ha pagato la cedola me oggi in anticipo di due giorni comunque io fino al 30 giugno non lo comprerei no dai non fatemi fare una live domani mattina che è anche il mio nomastico oltre che il patrano di Roma obbligazioni di banca sella 5% ai 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 qui consulenza di banca sella si vede se un altro danno il 5% e spero che queste obbligazioni siano state pagate a 100 queste sì sono vendibili queste obbligazioni cioè sono quotate andiamo a fare un controllino se su Borsa Italiana sono quotate sì ok che su banca sella siano quotate non ho dubbi su Borsa Italiana non lo vedo non sono quotate al motto queste sono abbastanza invendibili eh poi PICTET Premium Brands Air non voglio sapere cos'è Global Environment questi sono fondi evidentemente invest hydrogen a prezzo che almeno si è d'accumulo Global Funds New Energy Fund cioè tu hai detto al consulente di banca sella io sono un patito dell'energia vero? 10k della donna dove li metto conto deposito meglio potrebbe spenderli se salta Taiwan i tecnologici collano eh boh non lo so questi qua sono tutti fondi della banca tra l'altro tutti fondi un po' strampalatini vabbè cavano i loro costi micidiali per fortuna c'è pochi soldi e aspetto la tua live di stasera anche perché speravo di non lavorare con una bella maratona in piena mattinata mi spiace mi scuso per fare queste live di sera come tutti gli youtuber infatti vedo che i viewers in questo momento sono meno di quelli che ho la mattina e sono appena calati di 25 così debotto vabbè ok saluti i 25 che se ne sono andati eh sì vabbè le farò la mattina le live prossime mi chiedevo se potevo aggiungere un appendice ok voglio aggiungere un appendice 5k in totale poi finalmente gli scade una polizza che arriva in 19k ok però 5k e mi propone uno svagonata di roba Vanguard standard in pur investe con standard in pur x-trax japan x-trax aerostox 50 i-shares emerging market amundi india vanek defense cos'è questo siccome anche un altro me l'ha proposto andiamo a vedere cos'è in cosa investe just etf investe in armi defense industry se si in armi ok se uno prevede c'è ci sta ci sta tutto ecco 5k è perfettamente bilanciato anche perché questi due mi sembra che gli abbia suggerito io di aggiungerli e ci sta tutto ciao maria si già finite le ferie per fortuna senza connessione ma io comunque non ho mai ferie ma veramente non ho mai ferie cioè ogni tanto me ne vado punto non devo chiedere ferie dopo rispondo alla domanda di maria ok si è bilanciato cioè ci sta standard and pull standard and pull giappone aerostox asia india ci sta tutto però il suo problema è 1000 euro per ciascun etf allora la faccenda è questa 1000 euro per ciascun etf dipende dalle commissioni che applica la tua banca se sono commissioni fisse ad esempio un 5 euro di directa ti mangia lo 0,5% io a quel punto andrei su 3000 4000 euro per ogni etf vabbè ok che vuol dire tutti i 5000 andrei su 2005 o 2005 così almeno mi mangia meno mi mangia lo 0,2% quindi se invece hai delle commissioni percentuali per caso è una banca che ti applica le commissioni percentuali senza minimo allora puoi fare anche 1000 euro se gli acquisti gratis perché hai qualche promozione puoi fare anche 1000 euro senza problemi e anche meno se no io andrei io onestamente di solito entro sempre con almeno 5000 però perché ho delle banche che mettono un minimo 10 euro anche alcune banche sì quindi è soltanto un problema di commissioni perché per il resto se le commissioni ce le hai percentuali fisse allora puoi andare a entrare anche con 500 su ognuno se invece non ce le hai sono percentuali senza minimo se invece ce le hai fisse sono più rilassato no sono solo più abbronzato e soprattutto sono più rilassato perché adesso c'è un signor computer con tanto di scheda video invidia che fa invidia che battuta ok e sì comunque quindi il problema è solo commissioni questo bene a posto prima o poi arriveranno queste 19k e sei a posto benissimo rispondiamo alla domanda di Maria perché sapete le donne se voi mettete il nickname da donna si risponde prima io posso con long banking acquistare i tf in autonomia cos'è long aiutatemi cos'è long banking long banking non esiste la gente ambiente si alza tardi i poveri arrivano adesso qual è il vantaggio di comprare alla ritorno sulla faccia pina alla data di emissione un'obbligazione con cedola zero con prezzo di emissione sopra la pari allora attenzione comprare in emissione ok un'obbligazione zero coupon con prezzo sopra la pari follia follia esistono esistono perché durante il covid i tassi erano diventati negativi e quindi c'erano delle zero coupon che venivano offerte a 101 e chi è che le comprava le comprava gli intermediari finanziari perché loro non è che possono tenere le mazzette di banconote in cassaforte loro devono tenere i soldi in strumenti a basso rischio e perché anche perché per loro tenere mazzette di banconote in cassaforte è un costo e quindi per loro con i tassi negativi dovranno comprare queste schifezze qui ok buonasera directa le commissioni 1 euro e 25 a me fa 5 euro forse sugli etf directa anche il 19 per 1000 con ah directa a vari piani forse io ho scelto il piano a 5 euro fissi ah anche le commissioni variabili che sono molto convenienti allora sì in effetti sì ci sta prego Luca buona messa home ah long banking Maria intendeva home banking allora sì e allora se il tuo home banking ti dà anche accesso alla parte finanziaria quindi il conto titoli Maria quindi se tu hai un conto titoli già bisogna vedere quello e il tuo home banking ti dà accesso al conto titoli diciamo le banche un po' evolute lo fanno qui nella zona tanto per darvi un'idea le casse orali non lo fanno di default devi chiederlo espressamente le altre banche locali te lo fanno quasi in automatico quindi se hai un conto titoli dall'internet banking riesci ad accedere anche al conto titoli e sicuramente ti fanno acquistare su borsa italiana perché quello di solito è il minimo che ti danno e questi etf li trovi tutti su borsa italiana finecco agli etf e i shares gratis in acquisto infatti immaginavo che fosse uno di questi e quindi probabilmente si analizzati i costi del piano reply etf possa finecco no confesso di no non andare troppo a caso leggi almeno la pagina delle commissioni di diretta no l'avevo letta a suo tempo però poi ho detto buon per me per i miei volumi fa comodo la commissione fissa e vi confesso anche un'altra cosa io con diretta siccome uno di voi uno ha usato il mio referral ho 50 euro di commissioni gratis e quindi e siccome faccio pochissimi acquisti per un po' io con diretta le commissioni non le pago diretta la funzionalità di pack gratis a zero commissioni allora sì Luca se sei ancora attivo buona idea cosa ne pensa degli orsi delle sue parti ok diciamo che a me piaceva il progetto life ursus che fino anni 90 primi anni 2000 mirava le rintroduzioni dell'orso come animale selvatico quindi avevano preso degli orsi e li avevano lasciati liberi in giro e si erano ripopolati quindi a me piace quest'idea è anche carino sì probabilmente dico questo perché io non ho un greggio di pecore e avessi un greggio di pecore e vedessi qualche pecore sbranata ogni tanto o abitassi in montagna avrei paura è carino quando l'orso decide di attraversare la valle dell'adige e bloccano autostrada ferrovia e tutto perché insomma sta l'orso deve passare e quindi quello è anche carino e ogni tanto fa notizia però vi dico una cosa una volta per motivi di lavoro ho dovuto ispezionare tutte le email ricevute dall'azienda di promozione turistica in un anno e ovviamente avevo il nome e cognome di chi spediva e oscurato però ho dovuto analizzare tutte le mail in maniera semiautomatica e vi assicuro che la cosa più richiesta in assoluto era la baita per capodanno seguita immediatamente da voglio vedere l'orso quindi l'orso che ci sia polemica o no attira un botto di turisti quindi l'orso è qui secondo me anche se la popolazione può essere parte della popolazione può essere contraria anche se gli italiani c'è una parte contraria una parte contraria l'orso attira botte di turisti bene poi qui ci sono anche degli orsi in gabbia quelli che vengono catturati perché troppo pericolosi si possono andare a vedere una volta ne ho visto uno che ha fatto la cacca e vabbè ed era un bel guardare sì andrei adesso via mail se mi mandi il portafoglio via mail molto probabilmente sarà già arrivato il panino ma ti terrò conto per la prossima live direct da commissioni zero sì grazie molto apprezzata la programmazione della live un giorno prima c'è chi mi ha chiesto anche la live con regolarità è che avessi una vita regolare soprattutto d'estate difficile sì pensavo quasi di farne una ogni una ogni due settimane una live così e poi vi annuncio già che molto probabilmente se le cose non cambiano molto probabilmente farò una live sarà una live del genere sul canale di Mr. Rip però lui le fa su Twitch e poi le rimette su YouTube martedì prossimo già della prossima cioè quindi martedì tra una settimana e il martedì dopo ok in cui analizziamo portafogli però lui non è molto clemente come me quando il video sugli etf obbligazionari il prossimo video è se scegliere gli etf sulle cripto preferisco il tollo non so è vero che il prof ci offre davvero al bitcoin a 50k? beh 50k è poco eh cicci cioè è già andato ben su offro da bere al bitcoin a 100k c'è bitcoin a 100k facciamo festa e offro da bere e forse anche da mangiare tira più un pelo rosso si tira molto e allora mi fermo a Fabio Schiavon e adesso vado avanti con ta 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 allora torniamo su ecco qui allora Chiara Pergolesi che ovviamente non è Chiara ma sarà CP non so chi ha detto che ha un pack su Scalable Capital subito faccio un appunto ricordiamoci intermediario estero vuol dire dover fare quadre rvrmrt soprattutto vuol dire scoprire dove cappero sono questi quadri come si fanno a fare molto probabilmente Scalable Capital molto probabilmente Scalable Capital questi fornisce la documentazione finanziaria probabilmente se non sbaglio la fornisce addirittura precisa cioè ti dice cosa scrivere nei modelli il che è lusso però comunque restate voi responsabili nel senso che se non ve lo manda perché se è intoppato come ha fatto di giro se lo manda completamente sbagliato i responsabili restate voi non è che potete dire non me l'ha dato ok però vi dico adesso che hanno iniziato a mandare i moduli fiscali precisi se lo fanno bene per uno o due anni anch'io passerò agli intermediari esteri 48% un Vanguard all world ok 11% shares all world value factor ok Vanguard life strategy i shares global aggregate bond edged allora iniziamo con le critiche allora abbiamo un etf obbligazionario intanto edged edged si mangia non il 2% perché questo è un aggregate bond quindi si mangia il 2% probabilmente della quota che non è in euro quindi un 2% di un 2 terzi quindi si mangia un 1 e qualcosa per cento in media ok poi probabilmente l'hai scelto edged perché non c'erano edged perché un etf obbligazionario hai bisogno di questi soldi a breve cioè entro 8 anni non va bene l'etf obbligazionario se invece lo fai perché hai paura dell'azionario però hai dell'azionario sì io come al solito so che è una cosa molto comune farlo ma è una cosa che io non capisco uno ha dell'azionario però ci infila dentro un etf obbligazionario sia mai che si guadagni troppo non limitiamoci un po' ok vabbè subisco e questo ok 24% venga venga live strategy 80% ok e perché non metterci un 20% di questa quota qui e un 80% di questa quota qui così potevi anche venderlo a pezzi eventualmente io ho già detto la mia opinione su live strategy cioè io piuttosto di prendere un live strategy 80% prenderei 80% un etf azionario e 20% un etf obbligazionario e così posso almeno venderli singolarmente metti che c'è un imprevisto non prevedibile che neanche il fondo d'emergenza mi basta guardo i due vedo quello che non è calato vedo quello che è cresciuto e mi vendo quello ok invest fiscal gold ok ci sta e e pick su fineco 100% vanguard dividend yield distributing ok un high dividend yield deve essere per forza distributing un high dividend yield ad accumulo no io sono favorevole alle aziende che pagano dividendi perché in fondo il motivo per cui un'azienda esiste è che paga dividendo cioè un'azienda che non paga dividendo in teoria non si capisce aspettate che mi setto la telecamera perché quando mi giro di qua ok un'azienda che non paga dividendo non si capisce perché debba esistere perché è l'unico motivo per cui un'azienda debba esistere però distributing ogni volta che vedo ste cedole che ho sti dividendi che mi arrivano dico ok ci ho pagato il 26% sopra non ne sono contento e ok e BTP valore sono i credit che immagino siano soldi che ti servono a 4 anni perché altrimenti ok vabbè questo è il mio commento sul portafoglio di Chiara e qua un po' di altre risposte Aliazbank mi ha proposto di aprire un fondo investimenti dove scelgo x soldi ogni volta che voglio e loro investono in 270 tipi di mercato e poi ci si lamenta della mia scelta in 15 mercati no è un fondo quindi costerà almeno il 2% quel fondo non serve investire in 270 tipi di mercato basta investire in 5 tipi di mercato per diversificare poi considerate che i fondi vuol dire proprio fai tu se leggete il regolamento dei fondi è raro che mettano dei paletti e se li mettono sono molto laschi del tipo il fondo investe non più del 20% in questa cosa qui non più del quindi cioè è proprio dare i soldi a un'altra persona che ve li gestisce punto con pochi paletti peraltro si tende magari a fare quello che c'è scritto nel nome del fondo però io li usavo quando non c'era alternativa ma adesso alternativa c'è mi chiamo Petrit ok e volevo un consiglio ho venduto un appartamento un po' di soldi per investire così brutto e brutto Petrit scrivi un altro messaggio sotto e dimmi hai bisogno dei soldi tra 5 anni tra 6 tra 7 tra 10 tra 20 prima ridomanda seconda domanda se a un certo punto vedi il tuo investimento che va a meno 30% te la fai sotto e vendi tutto o stai lì tranquillo bevendoti la tua tazza con la B devo metterci l'altro sponsor della serata io adesso dovrei chiedere veramente alla Coca-Cola e al governo italiano che mi paghino la sponsorizzazione per i prodotti della Coca e i BTP e quindi scrivi queste due cose grazie Giulio affrancamento su Bitcoin non lo fanno? e l'affrancamento sulle criptovalute c'è è stato prorogato a settembre tra l'altro un affrancamento che uno si fa da solo perché non avendo l'intermediario te la fai te la fai e te la meni però è un affrancamento diverso cioè non si paga il 14% della plusvalenza si paga il 14% del detenuto e quindi è molto meno conveniente quello sull'etf era quasi un no-brainer quasi in realtà c'era nel mio video faccio vedere qual è il caso in cui non conviene Bitcoin ce l'ha ma io me lo son fatto ho fatto l'affrancamento fai da te il 29 dicembre è uscita la legge io l'ho letta e ho detto bene posso fare una mossa astuta vendo aspetto sposto un po' e ricompro e quindi l'ho fatto e di fatto io adesso ho i miei prezzi di carico dei Bitcoin e degli Ethereum aggiornati al 30 dicembre quindi ok bassini purtroppo però molto più alti di come ce ne avevo prima che erano i prezzi di carico del 2017 e Mr. Rip ha obbligato dov'è ah io mi son perso a etf obbligazionari non può giudicare nessuno sai che adesso pare ti cazza no comunque gli etf obbligazionari usati come investimento a lungo termine cioè hanno senso come investimento a lungo termine perché non vuoi investire in azioni hanno senso invece usati come salvadanaio del tipo metti i soldi lì sono sicuro di trovarmi questa quantità di soldi quello è un erroraccio alleanza per esperienza stai lontano ok io non l'ho detto alleanza se vuoi sponsorizzare il video un immobile a rendita va messo in portafoglio da far analizzare sì perché mi fa capire ad esempio che puoi rischiare di più che è anche il motivo per cui io rischio perché se ad esempio non avessi una casa di proprietà insomma avere la casa di proprietà sembra incredibile ma è un ancora di salvezza perché questo lo disse una volta un mio amico alla peggio 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 ti vendi la casa vai in affitto per vent'anni vent'anni vai in affitto per un bel po' abbastanza tranquillo risidenza in Germania scalabro ti fa l'assoluto d'imposta maledetto io nonostante l'analisi del porco sono un po' perplesso gli etf obbligazionari io anche no soprattutto perché sono pure edged magari lui non vuole investire troppo che ne so cosa pensate di GLDV cos'è un nuovo gioco di ruolo GLDV Global Dividend Aristocrats a distribuzione a me ho detto quelli che pagano dividendi ma non me li danno piacciono quelli che pagano dividendi e me li danno piacciono di meno decisamente soprattutto se poi c'è la doppia tassazione però a me quelli Dividend Aristocrats non ho mai fatto analisi però la letteratura finanziaria a cui non serve che le faccio le analisi è zeppa di analisi è una delle cose più analizzate se l'azienda che paga dividendi poi è anche un'azienda profittevole o no e vi dico che ci sono molte aziende che fanno il trucchetto magari se sono andate male un anno piuttosto attingono alle riserve ma pagano lo stesso dividendo io lo vedo molto spesso analizzo le azioni italiane ci sono certi periodi in cui vedi che l'azienda paga lo stesso dividendo ogni anno e lì vuol dire che è andata male ma piuttosto di ridurre il dividendo che è un brutto segnale continua a pagarlo quindi ci sono dei trucchetti si lamenta YouTube si lamenta che sto trasmettendo a poco bitrate nonostante il mio super computer oh Nvidia andiamo a vedere no non sto perdendo neanche un frame YouTube mi piacere ok e pensa ancora di tornare al regime dichiarativo ok no pensate che io l'ho fatto il regime dichiarativo penso fine anni 90 fine anni 90 ho fatto il regime dichiarativo perché all'epoca se tu avevi un credito IRPEF non c'era modo di riaverlo cioè dovevi dovevi o andare a debito e a me non succedeva mai perché era un dipendente non c'era il 730 all'epoca e per riavere il credito IRPEF dovevi fare domanda all'agenzia delle entrate che ti mandasse dopo anni e anni un assegno a casa sperando di non aver cambiato residenza quindi cosa ho fatto sono andato in dichiarativo avevo tantissime plusvalenze e ho compensato il credito IRPEF con le plusvalenze adesso che invece non ho più problemi di credito IRPEF perché c'è il 730 e il credito IRPEF mi arriva automaticamente anzi mi arriva automaticamente tra un mese e non ho più motivo di stare indichiarativo se non per usare intermediari esteri perché contare all'oro è sempre salito da 20 anni ah vediamo subito se è sempre salito da 20 anni cos'è oro prezzo storico abbiamo un grafico orissimo ce lo dà no un anno gli ultimi 10 anni c'è un andiamo sul sole 24 ore la fonte abbiamo anche un grafico tanto se la pagina scorresse in giù ne sarei contento no la pagina non scorre in giù ok andiamo su orissimo che è la la fonte 20 anni eccolo qui vediamo beh che è sempre salito a 20 anni no devo dire qui lo vedo discesa è qui metto qua sopra ecco qui vediamo 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 le simulazioni a 10 anni se uno compra qui agosto 2011 che è un brutto momento per comprare nel 2021 te tu c'hai ragione tenendolo 10 anni sei sempre andato in positivo quindi se uno lo comprava qui che era il momento peggiore ad esempio 2000 ottobre 2012 2022 ottobre 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 qui si si è sempre andato in positivo quindi a 10 anni sui 20 anni passati e 10 anni sempre andato in positivo qui ha avuto un calo si si e magari abbiamo anche qualcosa di più perché sapete che per me 20 anni è ieri abbiamo dagli anni 90 eh ma qui è difficile vedere proprio andiamo possiamo zoomare no abbiamo qui maggio 2099 quotava 2,59 andiamo a vedere nel 2009 si 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 sembra sembra buono sembra buono no no io non è che io ero un po' contrario all'oro perché facevo fatica a vederci a vedere sai l'azienda mi produce inutile l'oro però poi giustamente l'oro comunque è richiesto anche bitcoin non produce utile pure richiesto quindi si si ci sta secondo me l'oro infatti adesso adesso se me lo se la prossima volta che faccio acquisti in diretta me lo ricordate lo compro adesso che ho venduto un po' di etf ciao che percentuale dedichi etf azionari azioni pure intendi come dividerla io etf azionari 100% di quello che posso stare a 10 anni e quello che non è in crypto quindi tolto quello che è in crypto che è un portafoglio a parte proprio tolto quello che mi serve entro 10 anni così a stima a naso perché non posso andare a stime certe e tutto il resto etf azionari e poi azioni pure purtroppo dipende dalle minusvalenze che ho e dipende dal conto anche perché io ho almeno 3 conti e quindi in uno ad esempio non ho niente no 4 conti in uno non ho niente in uno e negli altri 3 in uno lo mangiate tutte le minusvalenze per fortuna e negli altri due ho ancora minusvalenze e lì dovrò battere con le azioni singole vuole dividendi perché abita in svizzera ci può stare etc e tn in crypto pro o contro? no questo maurizio e il video esce domenica domenica esce tutto proprio sono andato a speluccare anche il più piccolo pro e il più piccolo contro non si sbilanci su consigli finanziari se no la denunciano ho letto la legge ho letto la legge e i consigli finanziari non dati personalizzati si possono fare tranquillamente quelli non richiesti anche si possono fare tranquillamente quindi se voi entrate al bar c'è un amico e gli dite ehi compra bitcoin va benissimo perché la legge specifica solo che quelli richiesti non possono essere dati e quelli che non si possono dare sono quelli personalizzati richiesti e tutta un'altra serie di criteri piccato il problema sbilanciarsi in consiglia che poi magari qualcuno li segue va male se la prende con me ogni sossego a quale ti arriva un dividendo è esatto oddio state andando troppo veloci 5 anni posso lasciare a e petri brutta storia 5 anni niente 5 anni te lo dico subito obbligazioni riempiti di btp italia soprattutto ancorati all'inflazione btp normali e poi obbligazioni estere io 5 anni non correrei il rischio di andare sull'azionario perché se vai sull'azionario becchi un momento sbagliato ti trovi tra 5 anni con meno soldi quindi io se avessi i soldi che mi sono tra 5 anni no way ci fermiamo sempre a Fabio Schiavon proprio ogni volta e passiamo al portafoglio di Maria Ianniera Ciampi ho scelto Ciampi un lavoratore dipendente 30 anni RAL 27k ho da 3 anni un portafoglio in cui ho accumulato parte dei risparmi acquistando periodicamente bla 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 per un totale di 15k a questo aggiunge un pic 10k slide strategy 80-20 mi faceva stare tranquillo eh però vedi Maria Iannieri e Ciampi non è che sei tranquillo perché per due motivi primo perché non è che tu vendi solo questo 20k se vendi devi vendere anche questo 80k quindi se il mercato azionario si becca un crollo tu comunque sei tranquillo al 20% ma l'80k no e seconda questione anche questo 20k non è tranquillo perché se i tassi scendono scusate se i tassi salgono questo 20k si affossa quindi metti un caso strano adesso i tassi salgono di un punto il mercato azionario si affossa il tuo life strategy non ti fa stare tranquillo anzi proprio per niente comprare casa il prossimo anno ha vincolato 20k in un contodeposito ma le case da te costano così poco mentre 20k in obbligazioni governative europee scadetato un anno ottimo quindi abbiamo 40k per comprare casa ora quando mi parlate di comprare casa specificate quanto costa perché se io applicassi i prezzi di Bolzano con 40k e non esagero viene fuori un garage in mezza periferia un garage in centro te lo scordi un garage qui di fronte esattamente più di fronte 30k li costa ha un fondo d'emergenza da 2-3k ok tranquillo così benissimo l'extra liquidità che si genera bene intendo a breve liquidare tutte le posizioni per passare un unico ETF wall sia per semplicità che per diversificare geograficamente la quota è destinata agli emergenti vi terrò ad incrementarla per un po' ok all'inizio era 10-15 anni su orizzonte temporale ok c'è una domanda cioè quindi tu per comprare la casa ti bastano questi 40k tu lo sai che la casa devi pagare l'anticipo pagare le spese del notaio pagare spesso l'agente immobiliare pagare l'arredamento pagare la ristrutturazione dipende da che casa e dipende da dove però 40k pochini ok però se 40k per la casa ti bastano allora siamo a posto il resto possiamo investire da 10-15 anni allora dice che quando rientra pianificherà 5 anni anticipo il bilanciamento verso l'obbligazionario ok giusto e vediamo cos'ha o questo è cos'ha o cosa vuole avere no questo è cos'ha perché ci sono i soldi quindi ah queste non ce li ha ok questi sono il futuro ok ah queste cos'ha si infatti vanguard life strategy 10.000 mille di un obbligazionario americano 1-3 anni ok amundi 6.000 lixo 6.000 emerging market 1.000 ci sta ci sta se se è a 10 anni questo non capisco che ci stia a fare e neanche l'80 ma ci sta queste sono le obbligazioni ci stanno tutte oh che bella diversificazione be fr es it tadan ecco potresti farlo tu il video su quali obbligazioni straniere scegliere sì direi che ci sta tutto portafoglio piccolino perché la parte investita al momento è piccolina ci sta tutto questo sì io so che do sempre la stessa cosa ma questo qui invece di questo qui ah beh già scrivi che vuoi toglierlo invece di questo qui piuttosto un etf obbligazionario staccato ok prima di fare Cristina vediamo e Fabio Paolo ho 10k che non mi servono perché ho altri soldi a 27 anni sinceramente che ci faccio 200-300 euro al mese che voglio mettere da qualche parte ecco 200-300 euro al mese è giusto quello che volevo chiedere per avere il patron al canale grazie puoi fare il patron al canale da 200 euro e comprare anche il mio videocorso scherzo cosa vuoi fare è non ti servono 27 anni però per quanto tempo non ti servono perché a 27 anni la vita può cambiare oppure può essere già stabile dipende da quanto è stabile e quanto cambia se può cambiare obbligazioni se è stabile giuditi btf azionario anche il btp valore bisogna pagare il rateo alla cedola del venditore certo ma per fortuna è essendo a tasso fisso non ci sono tutte gli inghippi fiscali che una parte va così una parte cosa no è tutto chiaro tu paghi il rateo al venditore e da quello togli le tasse quindi gli paghi il rateo senza le tasse quindi gli paghi meno di quello che dovresti pagare della cedola lorda gli paghi la cedola netta di fatto al venditore quindi è tutto pulito almeno essendo senza la parte cos'è l'affrancamento Tiago ti tocca guardarti ho fatto 74 video sull'affrancamento ce ne sono di diversi quello più interessante che scade dopo domani è sugli etf ti vai a guardare il video sull'affrancamento degli etf devo andare a prendermelo vediamo content affrancamento sugli etf dov'è affrancamento sugli etf ho fatto anche un titolo clickbaiting come pagare solo il 14% di tasse secondo me l'affrancamento ho chiesto oggi ieri ho chiesto in banca in una delle mie banche e quanti hanno fatto l'affrancamento mi ha detto che l'abbiamo fatto in tre ok è una banca la banca non è grandissima però non è neanche piccolissima nella lista delle banche nazionali era tipo nelle prime 50 quindi non è neanche piccolissima 3 ah no 3 però di quelli della mia figliale grossa la mia figliale però è grossa quindi 3 in una città di 100.000 abitanti insomma ok cosa aggiungo al mio portafoglio che informazioni sono necessarie intendi per mandarmi la mail per quando ti servono i soldi e cioè la tua durata e se hai paura degli investimenti queste sono le due informazioni base poi se vuoi raggiungere altre cose e nuovo format portafoglio degli iscritti costituito tra stazioni casuali in una popolazione P di azioni scelta nuovamente soldi reali cioè mi state sfidando col fatto che ho le commissioni gratuite su directa potrei farlo potrei farlo veramente però non è che dovete scrivere di più su directa col mio referral però non ho fatto neanche un video su directa quindi il referral è difficile averlo però in effetti potrei farlo tipo allocare 10.000 euro e mi scegliete quante azioni 50 azioni le moto potrebbero evitare di passare per via l'Europa e 50 azioni io ci alloco quanto? 50 10.000 no 200 euro sì 200 euro per ogni azione ci può stare però dovrei avere commissioni gratuite se no e secondo me non andrà neanche male andrà come l'indice poi voi vi divertirete a prendere azioni del manga ma i libri sono rubati in una biblioteca eh sì questi qui li ho rubati tutti alla British Library British Museum questi invece Amazon Amazon quando vedete uno sfondo troppo bello Amazon piccola simulazione in arrivo eh no simulazione difficile farle al live qualche libro che meriti che tratti la psicologia umana riguardante i soldi no io mi sono divertito a leggere i primi due o tre capitoli di l'economista mascherato ma è più marketing mi ha spiegato perché certi tipi di caffè al bar costano di più di altri nonostante per il bar il costo sia lo stesso però poi non sono non è propriamente quello che volete altri libri non leggo libri di economia sono noiosi come la morte cosa ne pensi di LWMH cos'è Louis Vuitton è un'azione sì è Louis Vuitton sì Louis Vuitton un marchio della moda non faccio investimenti value investing quindi non saprei dire questo avete chiesto a Pietro Michelangeli etf obbligazionario europeo guarda sulla fiducia proprio il solito discorso se letti i soldi ti investi in etf obbligazionario perché è pura delle azioni va bene altrimenti no etf obbligazionario obbligazioni quelle sono la vera cassaforte l'inflazione però ok devo andare a recuperare dietro intendo sempre una parte per diversificare non là lo compri là in alto cercalo su investing ah grafico del 1975 accidenti vabbè comunque abbiamo già visto quell'alto mi fido che cresce sono indietro anche per compensare le minus giusto giusto le tc sull'oro va benissimo per compensare le minus valenze è vero potrei anch'io mettermi a comprare i tc sull'oro invece che azioni però le azioni tecnologiche mi fanno le botte all'improvviso vero lorenzo al quale avevo consigliato tempo fa per compensare le minus prendi azioni tecnologiche in effetti si è trovato bene su certe a 61 anni con una pensione netta da 1700 un capitale 500k come divideresti tra azioni e obbligazioni io a 61 anni non avrei dubbi tutto azioni perché perché a 61 anni sai con precisione cosa farai tra dieci anni tra dieci anni sarai ancora vivo contrariamente a quello che pensano i maledetti millennial sarai ancora vivo sarai in pensione sarai nella stessa identica casa stesso identico posto farai praticamente le stesse cose e lo dico da 50enne che faccio le stesse cose da 20 anni quindi io su quello non avrei dubbi cioè tu sai con abbastanza precisione quando ti serve l'auto nuova quando ti servono le strutturazioni dell'appartamento quindi le spese programmate in obbligazioni il resto in azioni io non ho dubbi investimenti farò dei video investimenti per i vecchi per noi vecchi e veramente azioni contrariamente a quello che vi dicono vi dirono puttanate un conto è quando ma anche se avete 90 anni secondo me azioni anche perché poi c'è un inghippo fiscale fortunato e se le azioni le ereditano i figli hanno una tassazione agevolata quindi secondo me azioni anche fino alla morte sono i giovani che non possono prendere azioni cosa dice la legge se aiuto i miei genitori a scegliere come investire ah la legge non fa mica scuse su questo cioè se in teoria non potresti aiutare nessuno ok poi però i tuoi genitori possono invece delegarti ad operare quindi possono direttamente autorizzarti a operare con i loro soldi tu non dai consigli ma direttamente glieli muovi quindi puoi operare ma non puoi dare consigli potremmo andare a guardare la legge direttamente però adesso si va un attimo fuori dall'argomento ce l'ho comunque la legge adesso ve la recupero al volo perché me la sono studiata per bene dov'è? accidenti non la trovo più ovviamente eccolo qui è il decreto legislativo eccolo qui si va bene non la voglio comprare decreto legislativo 24 febbraio 98 possiamo vederlo con un formato un po' più civile ci sono ci avevo fatto delle note vediamo se le trovo eccola qui consulenze in materia di investimenti il decreto legislativo dice esattamente cos'è per consulenze in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni quindi è un ti consiglio di comprare questo non è un io comprei questo ti consiglio personalizzate a un cliente qui però c'è un dubbio perché i genitori non sono clienti effettivamente potreste avere ragione dietro dietro sulla richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio se glielo fate senza sulla richiesta o senza iniziativa del prestatore del servizio quindi andate al bar e dite Giovanni compra bitcoin riguardo uno o più operazioni relativi a strumenti finanziari questa è la cosa che non si può fare quindi personalizzate raccomandazioni tra l'altro ho un cliente quindi fate uno che non è un cliente secondo me si potrebbe fare dietro sulla richiesta e poi vabbè ci sono altre cose che mi ero evidenziato c'è ben preciso qui ben preciso no la legge non è mai precisa dov'è che me le ero evidenziate anche le sanzioni mi ero evidenziate eccole qui e allora viene punito con la reclusione chi offre fuori sede promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento colloca non potete farlo offre fuori sede neanche promuove siamo lì dubbio tra l'altro la cosa più bella è che viene punito anche chi svolge servizi di comunicazione dati quindi se avete un sito in cui comunicate dati venite puniti fino a otto anni di reclusione l'assurdo della legge niente qui c'è viola varie cose ok quindi la consulenza finanziaria sopra è specificata limitata forse ci sta secondo me i genitori ci stanno gli etc gold si fiscalmente sono come delle azioni investimenti in etf e raids non li ho mai considerati perché non li ho mai considerati perché io mi sono detto se io standoci dietro non riuscivo a far rendere un appartamento più di un 6% perché il gestore di un etf raids che non ci sta dietro quanto ci stavo io riesce a farlo rendere di più voi direte perché è più bravo di te ma anche ci mette meno impegno però può starci perché può starci secondo me in effetti potrei metterli dentro anche quelli buonasera un conto deposito posto italiano al 3% lordo può essere interessante se è vincolato poco se non è vincolato senza dubbio cosa ne pensi della fare Activision Microsoft io non mi occupo di attualità ma ne so che proprio non la guardo non so niente vi posso dire cosa esce come serie tv ma ma con successo veramente non ne so niente non ho smesso di guardare i telegiornali dieci anni fa quando mi sono accorto che dicevano le stesse notizie negli ultimi 30 anni le notizie erano simili quindi ho detto buono ho già visto tutto passiamo a Cristina Terlizzi liquidità conto intesa San Paolo 6.000 euro ok BBVA non sprechiamoci BBVA 4 euro 82 uff ed anche il 2% lordo il conto di BBVA ok vediamo un BTP marzo 28 ah vediamo sotto ragazzo di 22 anni che abita con i genitori lavoro da luglio 22 ha iniziato a risparmiare evitando spesi inutili diventando minimalista io non è che sono molto favorevole al minimalismo ok ricarica telefonica di 7,95 e 7,95 di ricarica telefonica puoi fare meglio puoi fare secondo me puoi scendere a 5,99 200 euro che dà sua madre do mi permetto di segnalare che non si scrive senza accento se è voce del verbo dare e anche se è una nota musicale come evite alloggio iniziate a investire a giugno 20 in obbligazioni ok tornassi indietro benissimo e gli è rimasto questo fondo eccolo qui benissimo perché ovviamente la banca nel 2020 giustamente ti consiglia un bel fondo fondo obbligazionario ma è da veramente non ho parole gli investimenti ok benissimo esatto no 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 assolutamente 22 anni non si investe in azioni non si investe in azioni perché non hai idea di cosa farai è vero che tu hai iniziato a lavorare ma che ne sai quando comprare una casa ti trasferisci di tutto può succederti vuole investire vuole investire la liquidità che ha in iShare Zvda ok ad agosto investirà 9000 euro in Zvda e liquiderà gli altri prodotti allora io ti dico tu non vuoi vendere questa roba perché dici non voglio perderci 773 euro però tu ci stai perdendo quanto sarà il costo di sta cosa un 2% all'anno sarà il costo ci stai perdendo facciamo il conto calcolatrice eccola qui 4500 adesso sta cosa varrà 3008 76 euro all'anno ok quindi ogni anno si accumulano altri 76 euro di perdita inoltre se la vendi fai anche la minusvalenza quindi potresti anche recuperarla poi no perché non hai robe che recuperano le minusvalenze ok no la cosa su QtBacchetta è questa cioè perché perché non un 40 stock e un no cos'è 40 stock e 60 obbligazioni ok 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 poi ha degli iShares che immagino siano diversi mondiali diversificati un po' in giro vediamo però lo Svda che io confesso che non mi ricordo cos'è non mi ricordo mai ste sigle ah è uno standard MSC World USD all'accumulazione ok si si plain si si scelta giusta cos'è questo SEGA e IEBB si SEGA però non posso cercarlo devo cercare ETF SEGA cercare SEGA è pericoloso ah è un bond mmm e IEBB IEBB si chiama IEBB IEBB deve essere questo corporate bond allora adesso qui arriva la tirata d'orecchie obbligazioni etf quasi un etf obbligazionario etf obbligazionario etf obbligazionario fondo obbligazionario a 22 anni io comprerei se proprio non vuoi comprare azioni comprei obbligazioni vere perché perché ti servono i domani ti fidanzi ti assicuro tra due settimane la fidanzata ti obbliga a comprare a casa e perché immagino che Cristina sia un maschio sia un maschio la fidanzata o il fidanzato ti obbliga a comprare a casa e tu devi disinvestire ok se hai obbligazioni dici al fidanzato o alla fidanzata aspetta che mi scadono il fondo obbligazionario devi aspettare che vada su da solo io piuttosto soprattutto da giovane comprei obbligazioni piuttosto che i fondi obbligazionari comprei tutte obbligazioni qui piuttosto che i fondi oh sono soddisfatto che l'unico prodotto che sia positivo è il BTP Italia in realtà qui dovresti considerarci anche gli eventuali ah no marzo 28 non ho ancora pagato cedole eh questo io tirerei via tutta sta roba già lo venderei già da subito e comprerei se proprio non vuoi comprare azioni comprei obbligazioni ah svda ok e un l'etf azionario e obbligazioni singole perché veramente se ti servono i soldi queste cose qui ti rimangono a meno chissà per quanto adesso mentre invece con l'obbligazione hai la scadenza e dici buono quando scade non c'è verso questo nel marzo 28 ti rientra a 100 non c'è verso che vada giù ok facciamoci anche Marta Maniscalco andiamoci vado a recuperare noi maschi possiamo investire perché la casa la mette sempre il padre della ragazza con l'etf il primo momento sega sulla borsa di milano è sega punto mi bravo francois anche se non hai soldi da investire ah volevo fare una comunicazione importantissima per tutti quelli che non hanno youtube premium che onestamente vi consiglio spendete questi soldi per youtube premium vi evitate la pubblicità che vi fa installare app sul cellulare pensando che invece sia un video vi evitate la pubblicità che vi rompe le palle dopo durante prime video secondo me best investment ever e lo dico contro il mio interesse perché quelli che hanno youtube premium mi arrivano molti meno soldi maledetti e a parte farvi youtube premium se non lo avete e vedete la pubblicità nei miei video mi raccomando state attenti a che pubblicità vedete perché io non la vedo e se vedete pubblicità che vi offre interessi 10% all'anno puzza puzza molto opportunità di guadagno tramite il trading puzza opzioni binarie puzza evitate la pubblicità di fuffa guru adesso inizierò a mettere proprio su adsense i blocco su certe cose se riesco a farlo perché così vi evitate la pubblicità perché poi sembra associata a me no quindi la fuffa guru che viene prima del mio video non sono io ok Marta ti scrivo anche se in realtà un portafoglio ancora non ce l'ho ma sto cercando di chiarirmi il desk come farlo descrivo la mia situazione 35 anni software engineering e da qui si capisce che Marta non è una donna full remote 32k di ral vari benefit che non sto a lancare casa di proprietà regalatemi al grezzo dai miei completata investendoci i miei risparmi costo bollette minore di zero wow 70k liquidi bene sarai contenta la banca che c'è il contodeposito sbloccati un investimento immobiliare cioè tu sei riuscito a fare tutta sta roba beh potresti metterti perché non ti metti in quel settore cioè se nonostante il lavoro sei riuscito a fare tutta sta roba potrebbe non essere male veramente è un lavoro ristrutturare ma ah mi ha aperto gli occhi sul fatto che quel tipo di investimento non fa esatto è quello che ho detto io al lavoro non provvedo grosse spese per i prossimi dieci anni siamo sicuri siamo sicuri fidanzato fidanzata non arriva ti costringe a buttare via questa casa di proprietà dicendo una schifezza vogliamo comprare una vera ok va bene comunque portafoglio 30k ACV 20k Europa 20k asiatico cos'è ACV andiamo a vederlo subito devo fare il glossario qui si vabbè è i share ACV però c'è dato di sapere posso sapere che cos'è in cosa investe sta roba ah all country ecco cosa sta per AC ok quindi un mondiale 20k Europa 20k asiatico Europa asiatico perché qui ci sarà imbottito gli Stati Uniti meglio suddividere ulteriormente le tre zone no con 20k direi di no a meno che tu non vuoi fare asiatico tipo 10k Cina 5k India 5k buttati in un altro stato a casa tipo Thailandia o Indonesia o Australia o Giappone potrebbe starci Europa più difficile suddividerla ah manca forse UK Regno Unito che di solito non è beh beh basta che prendi un Europa con dentro Regno Unito poi avrai possibilità nei mesi dove tu filetisci un ulteriore K uno solo ok si ha senso di continuare ah una bella azione si potrebbe avere senso un'azione più che altro perché se sei costretto a vendere uno di questi in perdita puoi avere speranze che l'azione ti compensi le minus valenze anche se non bisognerebbe dover vendere gli etf in perdita ogni tanto è necessario ok rispondo un po' di cose a caso mi esce la pubblicità di un tipo che dice che un euro investito faceva 10 euro eh lo so io purtroppo con youtube premium lo svantaggio è che non guardano più la pubblicità di itoro a me è una pubblicità che piaceva moltissimo non sa neanche più com'è adesso etf obbligazione a lunga scadenza presi oggi per speculare sul ribasso dei tassi eh e se il ribasso dei tassi non c'è e c'è un rialzo a sorpresa così surprise magari trova il compagno la compagna di vita e la seconda casa gliela lascia è un problema se invece io questi tic li conosco tutti sì non stai investendo a caso no non mandatemi portafogli qui abbiate pietà dopo i video dalla tollo solo pubblicità di alloggi maldiviani davvero può essere sconsigliano i btp per rischio emittente prediligono etf obbligazionari perché a lei non piacciono perché con l'etf obbligazionario non sai mai quando rientrerai in possesso del capitale se becchi un momento in cui i tassi si alzano tu il tf obbligazionario ti porti avanti un meno x per cento mentre con l'obbligazione singola ha una scadenza in quel momento tu rientri del capitale e hai tutte le cedole pagate se non è fallita chiaramente gli etf obbligazionari sei tutelato dal fallimento l'obbligazione singola se non è fallita è molto più cassaforte quello è il vero investimento diciamo a meno di fallimento è un investimento sicuro perché è fisso il rendimento ed è fisso sicuro il cento che ti torna a scadenza quindi l'obbligazione singola per me è cassaforte è cassaforte diciamo con la serratura un po' rotta perché può fallire ok a parte il fallimento però è cassaforte io ho pubblicità di tasse trading quello ci sta tasse trading ci sta il BTP 2037 è il mio BTP ci investo da più di 15 anni mi è sempre andata bene ah la clausola è uno di quelli senza la famosa clausola non con la famosa clausola però un BTP beh sai il BTP 2037 alla fine se lo tieni 10 anni e passa ci va bene però io 10 anni e passa mi prenderei un ETF a quel punto non sarebbe meglio più ETF per regioni? sì ma non volevo spezzettagli da troppo l'asiatico ci sta l'Europa è più difficile spezzarlo come lo spezzi Europa orientale Russia non si può più Europa orientale poi lo spezzi Germania c'è paesi mediterranei Francia UK cioè Svizzera non so neanche se c'è dentro l'Europa tra l'altro sì ma spezzettamente in Europa è più difficile farlo invece in Asia più che in Cina India Thailandia no Cina India Indonesia volendo Thailandia e Australia e Giappone sono ben precisi i posti la PEC per l'affrancamento in caso si directa no in caso si directa directa l'affrancamento te lo fa subito eh guarda cerca sul sito in lungo e in largo cerca su internet perché directa una di quelle che l'affrancamento te lo fa subito però veloce perché il 30 è l'ultimo giorno il 30 è l'ultimo giorno la PEC io lo suggerivo di mandare una PEC per chiedere l'affrancamento per quelle banche che vi dicono ah non sappiamo come farlo aspetti che mancano i moduli voi gli mandate una PEC e a quel punto avete la prova che l'avete chiesto in tempo fare un elenco di dove investire per un giovane lunga durata e breve o facciamo un intero due ore e venti di video su questo sto riuscendo a far interessare la mia ragazza di investimenti spiegandole che può comprare azioni di aziende di cosmesi Enea 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 bello più perché devi devi fare queste cose se non le interessano mi sembra come quelli che per pur di convincere la ragazza a giocare a giochi da tavolo comprano i giochi da tavolo con i pupazzetti puccettosi le fidanzate non sono delle decelebrate come pensate voi semplicemente non gliene frega una mazza il problema è che vuole comprare solo l'oral e nessun etf ma ci sta faglielo comprare ah invece di prendere un etf world meglio questa è la mia filosofia aspettando la discesa del mercato azionario Paolo se c'è sta investendo in btp a brevissima scadenza ok ci sta se tu sai che ci sarà la discesa del mercato azionario io non lo so e spero che non ci sia così tu rimarrai fuori dalla nostra bull run cosa ne pensi dei buoni futri ripostali 4x4 non li ricordo li avevo già guardati comunque non li ricordo mi spiace che mi sono perso un mucchio di chat ma preferisco essere in diretta così è infatti in questi ragionamenti che poi non entri mai sponsor anzi lo sponsor è questo la bitcoin valley ok passiamo a ermene gil da padoan che dove sono caprosto è un po' arrivato è un po' arriva il panino le segnalo che ho anche una quota di obbligazioni per la mia banca locale e purtroppo ho anche una bella quota di prodotti assicurativi che ora pian piano sto cercando di recuperare non voglio pagare penali allora sui prodotti assicurativi e le penali una volta uno di voi mi ha mandato una mail e io mi sono messo a fargli i conti avevo fatto i conti che quei prodotti assicurativi gli costavano tipo un tipo un 7% all'anno gli costavano in mancati rendimenti e costi vivi e lui uscendo prima aveva pagato una penale del 20% quindi se lui ritardava di 3 anni l'uscita era equivalente alla penale quindi gli avevo quindi fatevi questi conti guardate quanto vi costano in termini di mancato rendimento considerate che se li investite in azionario stimate un 7% l'ordo e lo assicurativo magari vi rende l'1% l'ordo in costi di solito sono più di quanto rende quindi stimate quanto vi costa all'anno stimate quanto è la penale ogni tanto magari conviene pagare tutta la penale anche se le penali sono veramente massicce se uscite ok vediamo ah lui ha un portafoglio infinito pronti via allora bitcoin ethereum bitcoin ethereum ah perché come me segna i prezzi di carico ok allora questo è il valore questo è il valore a cui l'ha acquistato che usiamolo come non ha il valore a cui ce l'ha adesso è il valore d'acquisto perché bitcoin adesso non ha più 22.000 quindi ha un buona dose di cripto 10 quasi un 20.000 euro di cripto poi fidelity global amundi giappone extract asia isha svezia date questo questo portafoglio a mr reap subito amundi rusa amundi america è più diversificato del mio io non ho la spagna cazzo che invidia amundi india investo msc mondo leaks l'indonesia sembra fatto da me questo portafoglio c'ha tutte robe esatto tutti due 3000 3000 2000 leaks l'indonesia isha s msc usa ubs msc canada amundi inghilterra ubs msc australia isha sdlapur 500 leaks l'italia amundi nord america amundi svizzera mondo inghilterra svizzera oro fisico finalmente indonesia giappone spagna india mondo nasdaq 100 intelligenza artificiale direi che manca il portafoglio sud messico manca sud africa e manca cos'è che manca basta direi che il resto c'è tutto no c'è minchino ha si fatto portafoglio ok quindi lui sicuramente secondo me uno col portafoglio così non ha neanche bisogno del fondo d'emergenza perché se lui ha bisogno di soldi ne becca uno di sicura in salita qualunque cosa sia successo uno è sicuramente in salita di questi 1000 quindi lui secondo me non ha neanche bisogno del fondo d'emergenza e non sto scherzando è una strategia che ho discusso con uno di voi ciao Lorenzo e lui non ha bisogno del fondo d'emergenza perché uno che è in salita che è in come si dice in salita lo becca e magari è ora di venderlo perché è esploso direi che e poi non con te non pago a Microsoft Ferrari Apple che vi ricordo Ferrari è un'azienda estera quindi dividendo doppia tassazione poi ha delle azioni non ben specificate di nuovo Ferrari ha un altro acquisto è stato Apple Amazon Microsoft Johnson & Johnson Alphabet Porsche Walt Disney Coca-Cola Todd McDonald Enel Luve BenTV Mediolanum Ciat Italian Z Group World Faro Technology Unicredit Dolcebank AXA Marie Technimont World Altair Green Power ok io immagino che tutto sto catafacchio di azioni serva per eventuali minusvalenze che dovessero arrivarti da uno di questi 1000 ETF che viene liquidato per strani motivi o viene chiuso da autorità ah tra l'altro però c'ha una base robusta 88.000 euro su mondo e allora Ermenegilda puoi anche liberarti di queste obbligazioni assicurazioni anche se paghi un po' con tutti i soldi che c'hai eh un portofoglio come il mio sostanzialmente con uno ah no non era finito qui direct digit Ferrari Ferrari ti piace la Ferrari eh tra l'altro 10.000 euro di Ferrari 2005 di Ferrari quanto c'ha della Ferrari questo qua 8.000 della Ferrari ti costava meno comprarti una Ferrari un fan della Ferrari Porsche Todd Amazon ah ok e qui c'è il file Excel qualora volessi approfondire bravo 11.000 euro di Coca-Cola sì sì cioè siccome è forse troppe azioni cioè se perché o ti piace se ti piace comprare azioni così gira e azioni qua lassù giù allora perfetto se invece queste azioni ce le hai solo per compensare le minus forse iniziano ad essere anche troppe soprattutto anche veramente ingenti alcune però se invece ti piace perché dici Ferrari niente da dire tanto di cappello questo portofoglio io immagino che beh soldi tu non hai bisogno di fondi di emergenza di soldi a medio perché se ti servono 10.000 euro che so troverai sicuramente uno di questi Robby da 10.000 che sia in positivo quindi ci sta tutto perfetto benissimo vediamo se ci sono commenti su quella manca il Pakistan arrivo qui la mia ragazza mi ha convinta di investire TF sulla birra bene perché invece di BTP o Debono scegliere un conto del posto vincolato sì ogni volta io sceglierei tra i due tra i due ogni volta sceglierei non dimentichiamo che però il BTP può essere venduto all'occasione con una perdita eventuale se i tassi sono alzati io ho creato un portafoglio generazionale da lasciare alle mie figlie bene adesso vi dico anche una vi spiffero una notizia se quando voi morite gli eredi il portafoglio lo ereditano ereditano direttamente i titoli anche se la banca forse vi spingerà a venderli ma ereditano direttamente i titoli ma soprattutto il costo di carico di quei titoli viene aggiornato al momento della vostra morte o al momento della successione questo è un po' di battuta questa questione comunque viene aggiornato gratuitamente quindi vi fanno pure uno scontone fiscale cioè il costo di carico PAM viene aggiornato perché perché voi su quei titoli pagate la tassa di successione che però in Italia è zero fino a un milione di euro per i figli e i nipoti nipoti nel senso di nonno e quindi avere un portafoglio proprio che andrà in eredità ai figli con molta plusvalenza è veramente il top per cui l'ho detto prima un novantenne dovrebbe investire in azioni perché gli salgono poi gli eredi ereditano direttamente col valore di carico aggiornato quindi è una vergogna non paga neanche le tasse sulle plusvalenze va bene questo è quello che ho capito dalla tassazione ne parlavo anche con un commercialista alla Crypto Conference mi ha detto che è la soluzione ideale va bene ok ok e se si trasferiscono i titoli valiti a conti diversi broker se si trasferiscono anche le minus le minus vengono trasferite quando si chiude il conto devi chiudere il conto di solito te lo fanno quando chiudi il conto si chiudi il conto quindi poi chiede la certificazione delle minus e farla valere nell'altro broker panino con che facci tu stasera non lo so ho detto a una persona prendimelo surprise spero che non ci sia troppa verdura obbligazioni della banca se non sono quotate aiuto esatto quelle non sono quotate no assicurativi peggiori tuo portafoglio con un altro nome è vero un degno avversario è vero è vero è un menegildo coletti che se sa comprare buoni fruttiferi mentre i comprazioni post italiane credono di più e beh i buoni fruttiferi hanno un rendimento costante le azioni ballano ma anche il laos ma anche il pakistan ha speso di più per farlo questo portafoglio si deve diversificare il broker hai ragione da no uno così in effetti che ha costanti soldi diversificherai il broker perché se per caso hai bisogno di soldi e il broker in quel momento ha deciso che il tuo conto è congelato in base all'articolo 748 provvedimento dell'autorità giudiziaria non sai perché non capisci perché meglio avere un secondo manca l'energetico portoghese adesso vi racconto questa storia dell'energetico portoghese mister rip ha guardato il mio portafoglio e ha visto che secondo lui aveva un energetico un etf sugli energetici portoghesi no non è vero aveva direttamente una azione che era energias do portugal che è più o meno l'enel portoghese quindi non era un etf sugli energetici portoghesi era direttamente un azio un blocco di azioni su un'azienda specifica che era l'equivalente dell'enel portoghese una gestione assicurativa più famosa e rende meno la metà del bot annuale non ha tipo centinaia di euro in cripto ha migliaia di euro in cripto temo troppo diversificato secondo me penso che ce l'abbia così diversificato perché così quando ha bisogno di soldi lui pesca a casa da qualche parte ciao buonasera centinaia ai cosa è successo ma si è troppo veloci l'ho bisogno di uno che mi legga il coso ferrari doppia tassazione sì ferrari doppia tassazione sì perché è nv quindi olandese o giù di lì quindi giusto ha voluto spostare la tassazione all'estero e noi non gli compriamo la spostare l'azienda all'estero e noi non compriamo le loro azioni perché ci subiamo la doppia tassazione questa è è una d della ferrari entro dieci anni effettivamente ci ho sempre pensato non è così strano scalare una società ho visto una volta una banca che di punto in bianco una banca non quotata che di punto proprio l'ho visto sui dati della borsa che di punto in bianco ha preso l'azienda più piccola della borsa italiana se l'è comprata di botto e ha fatto una una fusione e così si è quotata lei stessa quindi è successo un caso bizzarro non lo racconto perché è troppo dettagliato comunque mi ha fatto impazzire perché non capivo cosa fosse successo perché vedeva all'improvviso un'azienda che ha cambiato tipo azionista di maggioranza in ferrari generale investimenti in bottiglie di vino e alto che panettone e più che un portafoglio è una fissa armonica di etier il messico c'era no non l'ho visto cosa ne pensa dei btp 2051 72 con tassi a ribasso eh però tassi a ribasso lo dici tu sì 200-300k di investimento tu investi 200-300k poi succede una roba stramba in macroeconomia i tassi aumentano di due punti e quei btp perdono un botto di soldi e devi aspettare il 2051 o 2072 per riottenere i tuoi soldi quindi rischio cioè sono le obbligazioni sono secondo me quasi più rischiose e quindi il modo per risonare le tasse è mancare esatto ma se morite presto fate risparmiare i vostri eredi i soldi sulle tasse e potete andare in fire prima quindi se programmate di morire presto avete tutta una serie di vantaggi un video su quest'ultimo topic quale su come le tasse agli eredi quando sarò sicurissimo di questa cosa sì lo faccio anche il coniuge sono i figli non mi ricordo se il coniuge è esente dalla tassazione i fratelli e sorelle hanno un'esenzione fino a boh 100.000 200.000 mi sembra i figli i nipoti quindi o anche i genitori fino a un milione il coniuge penso di sì è una domanda penso anche il coniuge non sono sicuro quindi conviene intestare gli etf alla nonna improvvisamente non pagare le tasse ottima idea comunque saluto mia mamma che guarda sempre le mie live sappi che tutti infatti penso aver fatto male ad affrancare gli etf anche di mia mamma beh ma il fatto che mia mamma morirà tra 30-40 anni quindi hai voglia buonasera come vede il rendimento 10% mensile realizzato con certificati a leva sì rendimento al 10% mensile se vanno bene i certificati se vanno bene una scommessa meglio quello comunque che il grattevinci quindi se dovete scegliere il grattevinci piuttosto certificati 10% mensile perché saranno 10% mensile ma avranno delle clausole che se succede qualcosa si potrebbero pagare ultra 90 anni come prestanome con testamento però devono anche andare su gli etf in quel momento ho visto il conto deposito di medio credit è vero è diventato il conto deposito di medio credit uno dei migliori in questo momento l'unica cosa si può fare online o bisogna andare in filiale e sto per aprire un conto deposito con conto progetto svincolabile conto progetto se è quello che ti dai soldi dopo 32 giorni attenzione perché a me io cioè non so nel mondo moderno intendo dal 2010 in poi non esistono più i pagamenti a 60 90 giorni no tutti vogliono i soldi subito cioè che so ti arriva l'artigiano ti fa un lavoro e tu gli dici quanto le devo ah le farò sapere dopo all'improvviso dopo 10 giorni pum arriva la pattura da pagare subito non è che poi gli paro tra 33 giorni quindi cioè i pagamenti arrivano a sorpresa e a scadenze relativamente brevi quindi io a 32 giorni mi sono trovato male rispondo soltanto a Lorenzo e se tu avessi minus non prenderesti azioni singole certo che prenderei azioni singole se avessi minus però forse lui ne ha veramente tante Ermenegildo Ermenegildo ne ha veramente tante tante troppe e troppe poi magari si diverte quindi andiamo con Amanda Zaccaria nel primo foglio ho messo in ordine i movimenti che parto oddio ho paura che parto dal 13-12-2022 penso di averteli disordinati nel secondo sono in ordine temporale ok oddio ah ho capito lui ha una gestione patrimoniale Amanda ok 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 lui è una gestione patrimoniale che si lamenta che in 180 giorni gli hanno fatto un movimento al giorno devo dire si meritano lo stipendio 2 euro a movimento generando un utile poco superiore all'1% nella mia simulazione sarebbero generati 1.500 euro ha inviato anche al consulente il prospetto vabbè dopo leggiamo cosa dice il consulente intanto apriamo questo excel vediamo se si apre eccolo qui l'excel di Amanda eccolo qui guardate questi sono i movimenti che fa il consulente guardate questo etf a mundi nasdaq 100 allora acquistato venduto 13 12 venduto 19 12 acquistato 13 12 un'altra tranche venduto 28 12 acquistato 8 del 2 venduto 16 del 2 acquistato 6 del 2 acquistato 14 del 3 acquistato 16 del 3 acquistato 17 del 3 venduto 28 del 3 venduto 13 del 4 che cavolo sta fermo ok va bene e questo è quello che gli ha fatto il consulente che ok beh alla fine però non è che pagano troppo tanto di commissioni solo 363 euro di commissioni poteva andare peggio eh e sono ordine cronologico le spese del portafoglio se non avesse fatto movimenti lui si è fatto una simulazione sua gli rendeva meglio quindi gli rendeva 2588 invece avendo fatto i movimenti gli ha reso quanto beh oddio qui è difficile da capire non so dove l'abbia messo vediamo forse c'è qua sotto no queste sono le spese comunque ha detto a sua gli ha reso l'un per cento qui c'è anche della liquidità eh gli ha reso l'un per cento comunque vediamo voglio vedere i commenti durissimi qui taglierei le braccine ai consulenti è vero un movimento al giorno eh niente eh sì eh sì eh sì e vediamo cosa ci racconta lui e la risposta è le commissioni di negoziazione sono solo è vero sono basse devo dire sono basse un euro a commissione è un lusso e la gestione si parla a una commissione trimestrale anche la commissione è bassa eh sulla gestione patrimoniale la commissione è 0,5 bassa devo dire perché c'è quest'altra commissione ah no ok ah in più c'è le commissioni di borsa perché c'è questo e questo va bene sì in realtà questa è standard eh questa commissione abbastanza standard dice che alla fine non ci ha rimesso poco ok è vero è vero alla fine non ti è costato tanto ti è costato 300 euro più 0,50 più IVA di quello che paghi per la ah trimestrale ritiro immediatamente vuol dire 2% all'anno è tanto no ok non è tanto per il lavoro che fa perché fa un gran lavoro ma cioè se mi chiami a versarti la cora cola un errore a versamento sì sì cioè e il problema è qui qui pesa questo pesa tanto alla fine quello che ha fatto cioè quello che ha fatto è assolutamente inutile e glielo dico proprio è inutile perché cosa ne sa lui che che vediamo vediamo chiamone qualcuno che dal dov'è qui perché questo l'ha acquistato il 19 del 4 e questo il 16 del 2 cioè 13 del 3 22 del 3 21 del 3 29 del 3 cioè che che come dove ha la palla di cristallo tra l'altro non è che fa vendite minime qui è fatto vendite anche massiccette vabbè ok cioè il problema comunque grosso sta qui in questa commissione trimestrale della 0,5 cioè paghi il 2% perché qualcuno gioca con i tuoi soldi no gioca e devo dire non fa danni almeno non fa danni e comunque anch'io sono disposto ad essere pagato ma non posso mannaggia sto pensando di fare l'esame per ok consulente inarrestabile in realtà il consulente poteva fare il solitario come il dipendente comunale di un percento di rendimento all'uso anch'io mi sarei aspettato una perdita e fare il modo migliore per perdere esatto e coniugia esente dice Lorenzo quindi anche il coniuge eredita quindi quando schiatterete vostra moglie che notoriamente vive circa 7-8 anni in più se ha la stessa età 10 passa anni in più se è più giovane si cucca tutti i soldi esente tasse quindi intestatevi voi tutti se siete maschi intestatevi tutti gli investimenti non ho capito se l'etf gold non uccise ok allora Vlad Ekstrond la regola degli armonizzati e non armonizzati se comprate un etf non armonizzato che peraltro di solito non vi vendo neanche gli intermediari europei va bene e ogni tanto lo vendo comunque se lo comprate quella roba lì finisce nella dichiarazione dei redditi ma non nei quadri finanziari nei quadri proprio quelli sulle vostre redditi è un casino quindi quindi non comprate mai gli etf non armonizzati questa regola però non vale per gli etc gli etn e gli etp quindi un etc non serve che non esiste armonizzato non armonizzato perché questa cosa probabilmente perché il legislatore quando ha fatto questa legge assurda assurda magari aveva avuto dei suoi boni motivi non esistevano gli etc ancora e quindi l'ha fatta solo per gli etf e quando hanno fatto gli etc non sono degli organismi di investimento collettivo del risparmio e quindi non si applica la legge sugli etf per quello gli etc non hanno bisogno di essere affancati non affancati non hanno bisogno di essere armonizzati quindi non c'è il rischio di trovarsi l'indichiarazione dei redditi e compensano le minusvalenze quindi strumento top perché sfuggono alla definizione di etf perché faccio molta fatica a trovare etf obbligazionari che portano le obbligazioni a scadenza ma anche se le portassero a scadenza si basano su un indice e quindi quando tu decidi di uscire non è che poi di dire ah io esco ma esco solo con le obbligazioni che stanno scadendo quando tu esci sei costretto a vendere anche quelle che non sono scadute perché si basa su un indice a meno che non esista un etf obbligazionario specializzato in obbligazioni a scadenza per loro vuol dire un etf a scadenza a un anno quindi il problema io faccio sempre l'esempio del problema che non può portare le obbligazioni a scadenza per far capire ma il vero problema è che quando tu decidi di uscire quando tu decidi di uscire non è che puoi dire all'etf guarda esco poco a poco man mano che le obbligazioni scadono no decidi di uscire in un momento e lui ti vende tutte le obbligazioni anche quelle a scadenza sta avvicinandosi le 9 quindi devo andare con le altre analisi Anita Nimber Nimber ma che cognome mi indovino etf 60% vanga high dividend tutto il mondo distributivo non capisco perché distributivo tutto il mondo accumulo ok i shares europa distributivo l'exo mondo accumulo ok perché ti compri di gtf distribuzione vabbè ognuno si compra quello che vuole i shares mercati emergenti accumulo distribuzione ci sta l'allocazione ci sta non capisco perché hai quelli distributivi c'hai un po' di vangardo un po' di vangardo un po' di i shares un po' di lixor direi alla mia approvazione liquido btp italia che immagino questi qua ti servano per spese che possono accadere a 7 8 3 anni e immagino che non sia un importo consistente perché se sono tipo 100.000 euro io comprerei titoli di altri paesi passiamo a daniela salvadori devo cambiare casa tra massimo due anni quindi mi serve un portafoglio prudente vediamo se è veramente prudente non sapendo se cederò a muti acquisterò tutto senza l'odiato aiuto bancario beh in questo momento io acquisterei se avessi soldi acquisterei direttamente io ho sempre acquistato quei soldi ma perché non mi è mai capitato di comprare casa no in realtà ho comprato anche casa ho fatto mutuo ma per una cosa strana per per un motivo strano perché c'era un tasso a zero agevolatissimo quindi tasso a zero detto non possono farlo però sì il mutuo è un po' una sega perché devi farlo appunto e ha un po' di costi c'è anche una piccola tassazione agevolata se è la prima casa però un po' di sega però d'altronde detrai gli interessi passivi dal 730 che non è male e quindi alla fine forse beh però adesso i tassi sono alti quindi forse non è un buon momento io guarderei come sono i tassi tra due anni le alleggo il mio portafoglio della banca principale dopodiché un conto di posa i dexa e dei titoli spagnoli ho paura su questi titoli spagnoli vediamo BTP allora non è tranquillo secondo me è questo perché ha settembre 52 2034 e di fatti il settembre 52 è in perdita del 30% e non sono tranquille le obbligazioni così a lunga durata non è come ve le racconta le obbligazioni tranquille sono quelle che ti scadono tra due anni quindi questa è tranquilla anche se è in perdita tra due anni lei ti ridà esattamente 100 cioè tornerà a quotare 100 il prezzo di mercato andrà a 100 tra due anni questa e questa è tranquilla questa va bene sì diciamo che il problema sono queste che non andavano comprate per la casa tra due anni però vabbè magari non lo sapevi oh c'è il rip in persona ah qua mi uomo l'informa aspetta l'ho fatto prima io e c'è il video pubblicato comunque è un format secondo me di successo perché stiamo dando di fatto dei consigli finanziari però non sono abusivi perché stiamo dando dei sconsigli finanziari quindi stiamo dicendo cosa non va ed è perfettamente in regola con la legge quindi riesce a dare dei consigli finanziari ma essendo degli sconsigli è un format ottimo secondo me ce n'è da fare in questo format vediamo i commenti durissimi oltre 300 spettatori per festeggiare compro 20 alfabet e Giorgio va che abbiamo deciso che gli subscribers mi dicono 20 o 50 azioni da comprare e io se ho le commissioni gratis su directa vado e le compro veramente una follia ok vabbè comunque queste due obbligazioni a lunghissimo termine non erano da comprare ormai te le tieni così e questo questo passa il convento conto deposito ai Dexa 20.000 ok titoli di stato spagnoli ok ma io non ho capito questi titoli di stato spagnoli sono su un conto spagnolo perché mi dice ah in altro conto ok no su un conto italiano perché vabbè tutto appartamento in affitto da 110.000 euro rendita 7.000 euro annui bene casa di proprietà ah vuoi comprare quindi un'altra casa allora no allora no perché se non è prima casa il mutuo è tassato abbastanza antipaticamente quindi il mutuo su seconda casa è tassato guarda bene quante sono le tasse perché io quando l'ho scoperto ho detto meno male che è prima casa perché se no TFR fondo pensione ok quindi occhio che a meno che tu non venda la casa piccola però è anche quell'altra non venda la casa piccola entro un anno dal nuovo acquisto il mutuo diventa un mutuo seconda casa ed è tassato in maniera sfavorevole fatti pagare il format Giorgio è riuscito a vedere Ermenegilda no ma glielo facciamo vedere subito sperando che sia ancora online velocemente Giorgio guarda il portafoglio di Ermenegilda Ermenegilda e una bella quota in prodotti assicurativi sottoscritti anni fa ok e adesso guardiamo cos'ha in portafoglio Bitcoin Ethereum Bitcoin Ethereum e non stiamo parlando proprio di bazzecole Fidelity Global Giappone Asia Svezia USA America Latina Europa Spagna India Mondo USA Canada Inghilterra Australia Standard.500 Italia Nord America Standard.500 Svizzera Mondo Fuzza Inghilterra Svizzera Oro fisico Indonesia Giappone Spagna India Mondo Nasdaq Cento 88.000 su mondo e tutti gli altri e aspettate Microsoft Ferrari guardiamo Ferrari 8.000 Apple Ferrari altri 3.000 Apple Amazon Microsoft Johnson & Johnson Alphabet Porsche World Disney Coca-Cola Todd McDonald Enel Lube M&TV Mediolanum Cia Italian City Group Warren Fertoroli Newcredit Docebank AXA Mariana e Ferrari 2005 Ferrari 10.000 c'ha 20.000 euro su Ferrari McDonald Enel Apple Coca-Cola e poi ah no basta ok tra l'altro ogni volta che Ferrari stacca dividendo Hermione Gilda lo parla come dividendo estero e fa gran festa il fisco italiano e quello olandese ok basta abbiamo visto fatto vedere il portafoglio di Hermione Gilda a Giorgio e dov'è che eravamo arrivati ok e non scherzo ma con un bond italiano a più di 10 anni non dormirai tranquillo di questi tempi l'Italia non è molto affidabile è sì vero però io è dagli anni 70 che sono in grado di capire i telegiornali ed è dagli anni 70 che sento che l'Italia è in grave crisi quindi insomma sì e no vedo poco Messico esatto Hermione Gilda ha il grave problema che le manca il Messico il Sudafrica e l'energia portoghese vi mando il portafoglio di Hermione Gilda adesso dai ve lo mando spero che non ne abbia male l'utente ricordatevi però che anche Hermione Gilda ha anche delle obbligazioni biper e una prodotta assicurativa ecco ve lo mando in chat qualora lo vogliate copiare ah però non ci sono i ritorni a capo ma voi capirete lo stesso ah no supero il limite della chat non si può mi spiace devo lasciarlo in descrizione andiamo torniamo a dov'è che siamo 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 qui ok cosa ne pensa di tutto il Stato rumenio l'ho detto cento volte allora sappiamo tutti che ha lo stesso rating dell'Italia sappiamo tutti che molto probabilmente non andrà in fallimento quindi molto probabilmente pagheranno tranquillamente rendono bene ma dentro il nostro cuore sappiamo tutti che l'Italia è più affidabile questa filosofia quindi se volete comprarli comprateli io in cuore mio so che l'Italia è più affidabile anche se mi danno rating BBB e magari scende a BB che video consiglio di questo canale per principianti oltre a quello di due ore taglia un paio di Ferrari e George è svenuto si penso anch'io oppure fa come me che ascolta le live con le cuffiette mentre sono in giro e non riesco a scrivere e io proprio ho io ho delle playlist che adesso vi 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 faccio subire allora si stacca ok mandiamo sul mio canale che non so se avete mai visto questa è la home del mio canale questa come la vedo io voi la vedete più o meno simile ho delle playlist e so come investire consigli super pratici questa è in ordine cronologico dritto quindi inizia dai video vecchi perché devi investire otterrò i da evitare strumenti per investire investire fino a 20 50 questa consiglio questa playlist io consiglio questa invece è un'analisi quantitativa in ordine inverso e approfondimenti è in ordine dritto ok comunque io farò veramente un videocorso gratuito gratuito veramente farò un videocorso veramente gratuito in cui rispiego tutto da capo perché so che se semplicemente linko la playlist non se la fila nessuno invece farò un videocorso così guardate nuovi video e io incasso nuovi quadrini ok un bel etf azionario senza però usa dentro non c'è un excluding usa non lo so se c'è non ho tempo di guardare azione che fa 50% più in 6 mesi me la tengo la vendo allora se sei minusvalenza io la venderei senza dubbio perché prima che scadano le minusvalenze la venderei se no con le azioni io ho visto che il ribilanciamento ti fa guadagnare di più sì però se non paghi le tasse se paghi le tasse ma io quasi quasi me la terrei diciamo che il mio cuore ma il cuore dice che di venderla quando ha fatto 100% troppe azioni da poco con 2105 Bertini dipende dall'orizzonte temporale se non ti servono ok ottimi video sulle opzioni però i video sulle opzioni se ve li siete filati in pochi è ciccibelli e io non ci ho guadagnato niente vediamo l'ultimo video è una vergogna anzi youtube guardate youtube mi ha sgridato per l'ultimo video per colpa vostra vedete youtube qui mi ha sgridato fewer regular viewers are choosing to watch mi ha sgridato perché mi sgrida cos'è successo ecco qui mi sgrida vedete youtube compared to this video people who regularly watch your channel are clicking less ecco quindi per colpa vostra sono stato sgridato da youtube si youtube ci sgrida ok l'audio è molto gracchiante eh lo so scusate allora vi spiego perché invece di usare questo microfono qui ero in vacanza pesa questo microfono non l'ho voluto portare già portavo tre computer mi sono portato questo che è il microfono secondario e devo dire che 20 euro solo è troppo poco poi il video successivo che ho registrato sempre in vacanza l'ho registrato invece con un rode da 100 euro e la differenza si vede ho però il rode direzionale quello che uso quando faccio le interviste ok a posto eh fare un video dove compri un'opzione in diretta perché io non sono un esperto di opzioni quella era la mia conoscenza finisce lì e mi dice belli qui uno mi dice giustamente il secondo era molto tecnico è più giorgio tu però mi dici che è molto tecnico e se leggi i commenti la gente si lamenta che è poco tecnico quindi che non ho spiegato bene che le call non si aspetta la scadenza si vendono prima prezzando quindi è difficile trovare il mio pubblico il mio pubblico spazia dagli interessati alle criptovalute che comprano che le opzioni è il pane quotidiano a chi è interessato ai BTP taglia e già il BTP valore è troppo un azzardo quando una pizza tui Bolzanini l'ultima volta non è venuto nessuno è venuta una volta la pizza a Bolzanini e sono venute due persone oltre ai miei studenti i miei studenti perché dovevano fare l'esame e quindi pur di ringraziarsi i prof sono venuti e poi altre due persone uno addirittura da Trento ringrazio saluto quindi se voi non mi venite alle pizze cicci passiamo ad Alice che devo finirvi tutti qui perché se no al momento l'investimento effettuato è pari circa 22k 31 anni sposato con un figlio due stipendi ah due stipendi perché maggio sia quello della moglie con contatti a tempo indeterminato mutua tasso fisso un per cento bravo per una casa vicina alla conclusione bravo mio TFR investito automaticamente in fondo pensione non di categoria in profilo azionario mia moglie in azienda mia moglie ha anche una di quelle polizze risparmio lunghissima scadenza che non possiamo ecco anche qui rinnovo il consiglio fai il conto esattamente quanto ti costa questa polizza tra spese e mancato guadagno perché se magari ti costa tra spese e mancato guadagno un 7% in tre anni è 20% che ti costa anche di più 22-23% quindi capacità di risparmio investimento chiaramente limitata ai fattori precedenti risparmio per 8.000 5.000 euro all'anno ok e allegro tabelline sintetiche benissimo bravo la proponderanza della parte obbligazionaria è dovuta all'eccessiva prudenza di mia moglie è dura deve essere dura fare i portafogli in due persone perché io li ho sempre fatti da solo cioè io ho preso i soldi di famiglia ho detto bon mo giustisco io e via saluto la mamma allora leaks of future mobility ok mobility quindi investe in autelet che immagino amundiams world sri pub ho paura per questo sri pub ah sri deve essere uno di quelle tecniche di investimento ok però vabbè ci sta secondo me cioè investire in fondi in etf che investono in tecniche particolari di investimento insomma state praticamente facendo il trading per l'interposta persona ok vanek defense che va di gran moda lo compro anch'io allora investe con physical gold e vabbè questo qua comunque è il risorio stiamo parlando di l'irrisorio comunque qui core msc world ok x tracker stock è un europeo ok comunque il grosso sta nel core world e nell'europeo vediamo cosa si dice ho visto che eri in vacanza mi sono alterato e ok poi btp italia a profusione e qui veramente il ministero dovrebbe darmi delle a meno un incentivo e anche a tasso fisso ok che ti devo dire è il portafoglio del prudente va bene hai la mia autorizzazione gli etf evidenziati in azzurro hanno la quota in aumento perché legate a un piccolo pack ah quindi quelli piccoli ok totale portafoglio l'obiettivo sarà per riputare a 50-50 ah ok va bene si ci sta ci sta portafoglio prudente se vi servono soldi avete queste robe qui da vendere prontamente ad esempio i btp italia non dovrebbero andare tanto sotto al 100 al massimo avete queste assi fisiche scadano 2026 questo scadano 2023 da vendere quindi ci sta ok direi che ci sta tutto l'unica cosa io andiamo a guardare questo qua è un amundi msc world sri pub amundi msc world sri pub andiamo a vedere cosa fa cos'è questo sri sri filtred ah no è uno di quelli che ah no no scusate non è uno di quelli che fa strategie di investimento particolare evita evita prende santo compagnia con un alto esg rispetto ai propri pari bah questa relative tutor sector peers vuol dire che se nel tuo settore il livello di esg è bassissimo possiamo prendere anche te ok si c'è questa cosa dell'esg che ancora non la condivido moltissimo però va bene ok si direi che ci sta è la mia autorizzazione vediamo i vostri commenti allora vieni a Milano in effetti quando sono venuto a fare l'intervista solo a 24 ore potevo fermarmi la sera a fare la pizzata ci ho pensato dopo però ero troppo stretto coi tempi perché quando ti chiamano per l'intervista diciamo gli enti grossi non è che ti avvisano prima ti avvisano due giorni prima tra il messaggio vieni anzi no vieni punto esclamativo ora la commenti è cresciuta questo weekend sono a riva del garda io no potrei convincere però andare a riva del garda però potresti salutare la mia barca e porto a San Nicolò posto numero 10 cercala mandami una foto mancato guadagno tenendo conto quale guadagno ipotetico 7% lordo quindi un 5% 7% lordo cosa ne pensi di live strategy l'ho detto due volte in questa chat però eh essere investito si ho caro letto lo sponsor della tazza a livello di commissioni spread com'è ecco no attenzione perché loro hanno il negozio compro euro che è un negozio fisico quindi cioè e ve lo dico penso che lo dicano anche loro espressamente se tu sei capace di comprare bitcoin da solo te li compri da solo presso un exchange loro hanno un negozio fisico è fatto per la gente che non è capace di comprarla da sola va lì gli fanno un wallet glielo mettono sul cellulare e gli mandano i bitcoin in diretta e lui vede che gli arrivano sul cellulare con la conferma e tutto quindi li vendono cioè vendono bitcoin è fatto per proprio per diffondere è la primissima idea di bitcoin perché infatti il roveretto è molto bitcoinizzata e quindi loro puntano a questo quel negozio diciamo è il simbolo del loro business poi hanno un altro business loro fanno servizi per i commercianti quindi installano i post bitcoin mettono light in network per i commercianti e altri servizi comunque opete comunque loro fanno prevalentemente il negozio non è non è un negozio in cui va uno che ha già dimestichezza con i bitcoin e riesce già a comprarli da solo presso un exchange se però non volete comprarli vabbè loro comunque vi tracciano non è che li comprate anonimamente anzi devono fare tutto il KYC anche loro anzi ne abbiamo parlato hanno detto che quando arriva lì uno che dice ho ricevuto un ransomware devo pagare il riscatto in bitcoin loro sono obbligati a non dargli bitcoin non glieli possono dare e quindi cosa succede questa persona esce spesso il giorno dopo arriva la moglie che dice buongiorno vorrei comprare dei bitcoin ok cosa intendi per affrancamento a Simone ciao Simone mio vecchissimo collega di quando lavoravo vent'anni fa e Simone ciccio ci sono tre video sull'affrancamento quello delle criptovalute che ancora è stato rimandato quello delle azioni che non conviene e quello degli etf che è l'unico che conviene e scade tra due giorni ti guardi il video l'ho anche linkato nella chat più in su la live è registrata si potrà rivedere sì certo e stavolta come vedete ha funzionato tutto connessione cablata e computer nuovo con scheda grafica invidia vera infatti vedo che il computer sta facendo pochissima fatica e non perdo neanche un frame e la live ho confrontato alcuni metti su logo con gli spdssg sempre ma è meglio potrei fare ragione potrei fare un'analisi degli sg potrei fare Nicola un'analisi è vero cosa pensi del software che fanno trading automatico sul forex conosco gente che da anni guadagna 300 euro al mese con 5000 euro di copertura allora il problema di questa affermazione è che anch'io da anni guadagno un mucchio di soldi con le criptovalute e le azioni però non ti dico le perdite quindi bisognerebbe per poter fare un'affermazione del genere che queste persone dicano pubblicamente sto facendo questa strategia in un modo che non è cancellabile e dopo ti fanno vedere che la strategia funziona poi dicono di nuovo sto facendo in un modo che non è cancellabile quindi non un video su youtube che puoi cancellare in un modo ci sono vari modi non cancellabili e quindi in quel modo posso essere convinto allora ha un algoritmo che funziona perché altrimenti basta che mi faccia vedere le cose che hanno funzionato e non mi fa vedere le cose che non hanno funzionato perché io andavo una volta alle conferenze di trading automatico andavo andavo ai primi IT trading di Rimini sono andato nel 2011 nel 2012 quindi tantissimi anni fa c'erano i primi trading automatici e lì proprio dicevano espressamente che faceva trading automatico gli algoritmi di trading funzionano per qualche mese dovete sorvegliarli e poi di solito tendono a non funzionare più perché il mercato è cambiato quindi gli algoritmi di trading possono funzionare però cioè non siamo secondo me è vero che le conferenze erano di dieci anni fa però anche adesso non siamo a livello che si auto aggiustano quindi io voglio vedere non tanto vedere i risultati perché ci sono sicuramente ma vedere anche i non risultati quindi le perde difficile crederci e ho risposto in maniera come si dice completa perché so che Lorenzo è una cioè non è stato fatto cioè quelle persone probabilmente gli hanno fatto vedere chi lo conosco gli hanno fatto vedere cose chiaramente oggi top quality pizza al cartuccio di Bolzano non so dove sia sai qual è la sola la live affe non deve essere pagata perché è troppo bassa 12 euro penso che sia io avevo mandato il portafoglio per email non l'hai messo nella live cosa devo fare se me l'hai mandato prima delle 6 e 50 c'è infatti adesso torniamo ai portafogli Luisa Mandorlato il portafoglio attuale è staccato circa un mese prima che scoprisse i tuoi video mi è stato consigliato al consulente della banca ho permesso sparare sulla croce rossa chiedo un momento di pietà per eventuali erroracci il viene di massima BTP ma l'ho già guardato questo ah sì sì l'ho già guardato Luisa Mandorlato l'abbiamo fatto per primo ok Giulia Pellegrini l'envio è un allegato il portafoglio di investimenti di mia madre ok Giulia pensionata con una certa tranquillità economica al di là di soldi investiti personalmente so che questi strumenti sono inefficienti mettere becco parliamo di questo parliamo di questo allora il mio consiglio è questo o la persona si fida ciecamente di voi ad esempio la madre come la mia mamma che saluto e vi dà delega a operare sul contotitoli che vuol dire proprio in banca nella banca di mia mamma c'è la mia firma e io posso andare in banca e dire vendete tutto questo e lo fanno punto senza chiedere a mia mamma o la delega a operare altrimenti è sempre brutto perché avviene una contrattazione sulla quale tu tra l'altro non hai nessun interesse a contrattare sì sei l'erede di fatto però è sempre brutto mettere becco sugli investimenti degli altri anche i parenti strettissimi certo va fatto perché però tra l'altro se la mamma non ha certa tranquillità economica potrebbe veramente investire pesantemente in azioni quindi o la persona si fida completamente altrimenti è veramente brutto io quasi non lo farei nelle mappe di convincimento mi aiuterebbe a capire come sono composti questi cappero di fogli di ferro ok chiedo il vostro aiuto alla chat sono forse dei fondi di fondi inoltre se disinvestissimo per la scadenza ok questo è quello che mi manda ok bella scadenza del 2026 portiamoli a scadenza dai che tanto facciamo mangiare anche anche il fideuram a meno che non hai il pieno appoggio di tua mamma porta la scadenza è un contratto di consulenza che scade sì a meno che non hai il pieno appoggio di tua mamma potrebbe esserci dei problemi di non portare la scadenza perché ovviamente quando vai lì il consulente si offende dice non ti fidi più di me e metti in atto le manovre magari c'è anche ragione non ti fidi più di me sì non mi fido più di te ok quindi quasi lo potrei essere 2026 quanti anni mancano due anni e mezzo allora vediamo cosa c'è JP Morgan un fondo non si sa cosa global income 40k global environment opportunities 10k robotics 10k global thematic opportunis 10k global megatrend selection 10k ok se non altro sono fondi mi sembrano fondi azionari questi se non altro schroeder international selection fund global climate change equity accumulation edged ok 2% di costo in più 15k poi tre cose su cui non voglio sapere cosa siano ste robe così me li ha buttate lì così l'ha scritto lui ma queste cose sono quotate tra l'altro no ovviamente saranno fondi non quotati vediamo questo che forse mi sembra anche perché è talmente tanto tempo che non investo in fondi che non so più neanche in che come si facevano a comprare ok morningstar me lo dà è certo è suo JP Morgan me lo dà è suo Milano Finanza Borsa Italiana cosa vedono i miei occhi vediamo è lui ah no non c'è ovviamente no no il problema dei fondi è che ci sono borse di fondi ma sì niente tutta sta robaccia io me la terrei in fondo non è neanche proprio non è neanche la cacca anche se sono tutte robe costose che investono più o meno come vogliono su settoriali tematico opportunities a me piacerebbe mettermi mezz'ora a leggere che vincoli ha il tematico opportunities cioè cosa vuol dire dove ho cioè questo qui secondo me il gestore fa quello che gli pare ci dice che opportunità ci sono questo mese i fast food giù fast food ok niente quindi questo è il mio commento da poi farlo a darlo alla mamma cioè qui il gestore fa quello che vuole come gli gira fa quello che vuole e per questa operazione si farà pagare almeno un 1-2% perché robotics il gestore come gli gira farà e in più queste cose qui sono veramente delle black box scatole chiuse sì sarebbero tutti da vendere questi non hanno scadenza quindi sì da vendere per forza tra l'altro vedo delle grandi perdite nessuno in grosso guadagno no nessuno in guadagno forse beh niente che ti devo dire certo che sono da vendere aspettiamo il 2026 e al 2026 smettiamo la consulenza vendiamo tutta sta robaccia e diciamo ciao ciao sappi che vendendo fondi ci perdi perché non è che sono come le azioni o gli etf che hanno una borsa è già un po' più difficile la faccenda poi queste cose qui non oso pensare cosa siano vediamo se mi dite qualcosa dovrebbero essere tutti fondi quotati sì però quotati poi dove li compra cioè in caso di nostra dipartita improvvisa ah ecco lasciate semplicemente agli eredi l'elenco delle banche poi gli eredi contatteranno le banche e gli intermediari e gli intermediari gli diranno cosa fare è una cosa che succede quindi lo sanno fare shalom amico ok a Merano non vieni mai no di solito a Merano no più che altro non ho niente da fare ecco Paolo Rossi Paolo Rossi dice una cosa vera e vi faccio un esempio più semplice io adesso prendo una mail mando una mail a 10.000 persone in cui dico a 5.000 persone dico comprate Apple ad altre 5.000 dico vendete Apple una settimana dopo se Apple è andata bene mi tengo le 5.000 persone a cui ho detto di comprare e mando a 2.500 una mail che dice comprate Apple altre 2.500 una mail che dice vendete Apple passo una settimana faccio la stessa cosa a quelle a cui ho cercato la provvisione mando la mail ecco posso fare questo giochetto 10 volte alla fine mi si è ristretto chiaramente il numero di persone però per quelle persone lì io sarò il guru di Apple perché ho azzeccato 10 volte di fila la roba in realtà non l'ho azzeccata ho semplicemente dato di mezz'alto ogni volta il campione quindi c'è questo giochetto che si può fare facilmente ok ah lui mi mandava qui il link vediamo clicco beh ma penso che sia il link su Morningstar infatti ok allora Albina Santa ho 29 anni sono ingegnera ovviamente e lavoro come dipendente per un'azienda privata ho iniziato a investire un anno e mezzo fa vorrei raggiungere la libertà e la indipendenza finanziaria entro i 45 e i 50 anni se ovvero indicativamente 500-600k che mi permette ad avere una rita passiva copro quantomeno le spese minime in modo da poter lavorare sui miei progetti in un lavoro part time ci sta ci sta col lavoro part time si dipende da che ingegnere e quanto guadagni perché l'ingegnere può guadagnare veramente da niente a tanto in questo primo anno ho provato più strumenti come test se test è più che altro per te stesso più che per gli strumenti la mia idea del prossimo futuro è spostare il capitale da monofarma diretta giusto e comprarmi gli tf per conto mio eccestà lo tiene fino a fine anno perché sfrutta la minusvalenza di 1000 euro voi sapete che su gestioni patrimoniali si pagano le tasse solo a fine anno o a chiusura dell'investimento e le pagate come se stesse vendendo tutto a fine anno quindi a fine anno si chiude baracche e burattini come se stesse vendendo e ricomprando che è quindi una trassazione un po' sfavorevole ho in mente di spostare anche una parte di soldi dal conto del post verso directa per incrementare l'azionario ok sono in perda 2000 euro però diamo la colpa alle criptovalute povere ok vediamo cosa abbiamo questo ne parliamo dopo ok etf stocks bond gold portafoglio livello 7 ok etf stocks gold de giro sai che rw rt rm aspettare che ti vieni in quadro i giusti quest'anno mi sembra che non abbia sbagliato poi btp su inter san paolo 6.000 euro il tfr fondopensione 4.000 euro allora io mi metto i board games ho dei board games che su ebay sono venduti a 100-200 euro l'uno quindi mi devo mettere i board games anch'io come il rip ok io mi metto la mia barca a vela che secondo me quota meno di 5.000 euro ok un conto deposito è 5.000 conto deposito è 5.000 queste sono veramente vendibili cioè tu li vendi ottieni 860 euro o è quello che tu gli hai pagati no penso che li ottieni dai i sets di lego cc carte propagate con tanti 10.000 ok e vediamo le crypt si bnb per avere screen bnb per avere cashback sulla carta ah ok si ok va bene non ti rompe come si chiama albina ogni volta che devi fare dei pagamenti con la carta crypto perché per me la rotura di balle delle carte crypto è quella principalmente ogni volta che devo fare un pagamento qui oh il mio il mio hamburger non arriva vabbè vedo cosa è successo al mio hamburger eh ah mi dicono che è stato ordinato sono in live entra pure con la mano passami l'hamburger quando arriva ok è stato ordinato benissimo ok e non vi scoccia dover continuamente fare bonifici in questo caso a binance per caricare la carta perché per me è la scocciatura principale perché vuol dire che continua a fare bonifici da 900 euro ogni volta va bene comunque il portafoglio sì ci sta sì io andrei tutto su direct anche questo così ti liberi dell'RW no dell'RW no ma ti liberi dell'RT e di e hai soltanto le crypto giusto da fare questo è un po' però insomma in realtà ci sta quant'è un 10% del capitale sì un portafoglio aggressivo questi bondore e soisi se non sbaglio sono italiani veri vero quanto è valutata la versione in legno di carcassonne cioè Pier Giorgio tu hai carcassonne in legno cosa intendi cioè con le tessere di legno i cavoli perché non faccio l'affiliazione con Interactive Broker come Mr. Reap io ho dei problemi di lavori che posso fare la legge c'è un set di lavori che io posso fare sicuramente e tra questi c'è divulgazione a pagamento c'è un set di lavori che io non posso fare e poi c'è il mezzo non si sa quindi io secondo me l'affiliazione con Interactive Brokers potrebbe cadere in mezzo e quindi non so se posso farla e quindi ho problemi se no avrei già venduto il deretano a chiunque sai che sponsorizzo fuffaguru ok ok parliamo di peer to peer landing questi spero che siano italiani se no la tassazione è un casino vedo che comunque è abbastanza poco se ti piace ti ello cioè anche caro landing io non credo molto in queste cose perché mi chiedo se una persona mi incontrasse per strada e mi dicesse mi presti dei soldi e mi facesse vedere anche che ha un progetto bello gli darei chi è che gli do e perché gli do degli sconosciuti che mi fanno vedere che hanno un progetto bello ok con Bondora c'è il fatto che Bondora mi fa da garante se non l'ultima volta che ho visto Bondora c'erano due opzioni una che Bondora ti faceva da garante ok però Bondora è pur sempre un'azienda X di dimensioni piccole darei comprei 1500 euro di obbligazioni Bondora no no cioè ci poniamo i dilemmi se comprare i BTP Italia prestare soldi a Bondora no cioè quindi quello è il mio problema che sto prestando soldi o a persone che sono piccole possono fallire anche con tutto il loro buon cuore ma magari falliscono comunque oppure a aziende che sono pur sempre piccole quindi io no non mi piace cioè non mi piace ho tentato di farlo poi mi sono formato più che altro perché non ci avevo sbatti e poi mi sono fatto questo ragionamento e quindi vedete se riuscito a convincermi del contrario vediamo il lato scuro dell'essere statale tra l'altro io non sono statale la mia università tecnicamente è privata però c'è una legge che disciplina tutti dipendenti cioè tutti i docenti universitari tra l'altro anche lì devo vedere se come ricercatore ci cado dentro però secondo me ci cado dentro solo so a Bondora no quindi c'è dichiarazione da fare i redditi vengono tassati con l'aliquota Iropef anche Bondora e Lituana quindi i redditi vengono tassati con l'aliquota Iropef quindi occhio a quanto hai di Iropef ok ed era l'ultimo comunque quindi adesso posso dedicarmi a rispondere alle vostre domande pensa a Hai sì pensa a Hai pensa ai miei 1000 euro su Hai che sono diventati 300 e sì Bondora funziona bene no devo dire Bondora funziona bene il problema è cosa ne sappiamo noi se fallisce cioè potrebbe veramente fallire da un momento all'altro non è che abbiamo i conti sott'occhio e anche se li avessimo sott'occhio Parmalat ci insegna che nei bilanci ci puoi nascondere di tutto quindi stiamo prestando soldi di fatto a un'azienda che va bene però immaginate se fosse un'obbligazione obbligazione Bondora la comprereste non so piacere di conoscerti ciao Federico cosa ne pensi del fondo dell'emergenza in un etf di tips americani i tips immagino che siano i treasury bonds aiutatemi vedo che ho ricevuto un milione di mail ma tips americani cosa sono sono obbligazioni che partano in cedo su un capitale indicizzato l'indice ah sono ok si chi le emette però ah sono treasury al treasury ah quindi ok hanno l'unico problema che sono in dollari e quindi di fatto tu hai una rendita dall'obbligazione che è pari più o meno all'inflazione americana diciamo e poi hai l'oscillazione del dollaro quindi hai una rendita che facciamo un 5-6% per l'obbligazione americana e poi il dollaro che ti oscilla di più o meno 10-15% quindi è un investimento due terzi nel dollaro e un terzo nell'obbligazione quindi è più un investimento in dollari però se vuoi a posto viene a venezia facciamo pizza e partita si a venezia c'è anche c'è anche lorenzo quindi in effetti ah partita a carcassone di legno tu lo sai che carcassone sono un vero campione cioè come infilo i contadini io nelle città degli altri non le infila nessuno so che sembra scurrile ma non è così il mio non l'hai messo la mail che l'ho inviata il 17 maggio mi spiace no strano perché le ho recuperate tutte rinviammela prossima live una domanda ho degli etf su de giro non ho ancora dichiarato nulla bravo c'è una soglia no devi dichiararli tutti l'RW va fatto per forza poi magari non paghi tasse perché sei sotto i 12 euro di vafe ma l'RW devi farlo oddio se hai poca roba magari non ti arriva un accertamento ma io non ti consiglio niente ah quindi il Piero Giorgio ha il crocasson di legno e mi devo segnare passare a Venezia da Piero Giorgio e ho anche i 2000 euro di carte magic sì ma le carte magic 2000 euro le comprano veramente ancora 2000 euro quindi quando mettete asset del genere chiedetevi non voi chiedetevi un Piero da quanto sarebbe disposto a pagare il fatto che siano in vendita su ebay robe simili a 2000 euro non vuol dire che valgano 2000 euro devono essere state fatte delle vendite a 2000 euro perché anche la mia barca secondo me vale 7-8 mila euro eppure quando l'ho messa in vendita a 5000 euro non me l'ha comprata nessuno maledetti potevate comprarmela e d'onde vengono i fondi il problema ah ecco Vitos dice una cosa veramente sacrosanta che è il motivo per cui non faccio mai analisi su fondi i fondi quando vanno male cosa fa l'emittente li fa sparire cioè quindi prende il fondo lo mette assieme a un altro fondo quindi fa una fusione di fondi oppure lo chiude liquida la gente lo chiude in questo modo chi fa analisi quantitative come me vede il fondo non c'è non c'è più e quindi i fondi andati a male sono finiti sotto il tappeto e questo è un grossissimo problema per chi analizza fondi bisognerebbe fare un'analisi di fondi seria mettersi lì e per 5 anni tracciarli in prima persona così quando il fondo muore segnare che è morto perché andava male quindi proprio punire chi prossimo laureando gli rifiliamo sto lavoro da fare però ci mette 5 anni a laurearsi come facciamo prossimo laureando che è un po' lento gli si dà questo lavoro da fare vieni in Sicilia se ero venuto in Sicilia l'anno scorso ho preso pure il covid ero venuto in Sicilia ero venuto ero venuto ero venuto a Modica bella devo dire bella ero venuto a Modica per una azienda che sto seguendo e ho esagerato acquistate 100 alfabet attenzione che Nick ha fatto un'operazione con le opzioni ha acquistato 100 alfabet nel frattempo arriva il mio panino vediamo cosa dicono del mio panino no proprio non mi hanno minimamente considerato ok e Nick ha acquistato 100 alfabet e ha venduto una call quindi quello che parlavo nel video sulle strategie con le opzioni lui ha venduto una covered call quindi ha fatto una vendita allo scoperto di una call roba che io insisto le persone normali non fanno cioè bisogna essere bravi gestori di queste robe quindi ha venduto una call e ha acquistato l'azione con scadenza settembre 23 vada come vada bravo facci sapere quindi con questa strategia Nick ci guadagna se alfabet si alza di un pochino perché dipende da quanto l'ha comprata e ci guadagna se alfabet resta lì ci guadagna se alfabet va male perché di fatto munge la call ok potrebbe convincere la madre che del consulto di un consulente finanziario autonomo è vero Francesca hai ragione però secondo me la madre dell'ultimo l'ultimo l'ultima persona si fida più di lui o di lei la madre di no la madre qual era di di Giulia Pellegrini si fida di più di lui o di lei che non del consulente finanziario autonomo in caso di nostra dipartita improvvisa come si ah ok questo l'ho già detto segnatevi io me li segno tutti poi i miei ready non si filano di pezza i miei fogli excel comunque ho tutte le banche dovevo un conto e anche gli intermediari di crypto anche se sono vuoti quindi i miei ready dovranno contattare e coinbase e bitfinex e bitstamp e hi e questo è quello ok shalom un ammanciatore proprio anche promotori basta direi che abbiamo finito se non fossero domande finali se ha comprato alfabet e venduto la call è già coperto si si ah si no è coperto nel senso però deve tenere alfabet perché non può venderla cioè non è come avere l'azione che la vendi quando ti pare no devi tenerla perché il tuo intermediario sa che hai venduto una call quindi hai una call allo scoperto e devi avere le alfabet ok le carte magiche pokemon hanno molto mercato molte le ho quando le fodrine non esistevano e sono scartavetrate perché come me ci hai giocato tanto io infatti ci ho giocato e assaggiato il cioccolato modicano certo anche se devo dire volevo solo morire appena mi è arrivato il covid volevo solo morire 40 gradi aria condizionata che funzionava così così e io che morivo col covid la febbre sono dovuto uscire uscire a luna di pomeriggio col sole a picco per cercare una farmacia di turno a un certo punto ho spossato perché Modica è tutta in salita ho cercato un taxi mi sono fatto prendere taxi a Modena sono difficilissimi da trovare perché è alla fine una cittadina molto piccola taxi ogni volta che telefonavo un taxi mi rispondeva molto gentilmente dicendo che non era in servizio proprio devi chiamarli uno a uno alla fine ho trovato uno mi sono fatto fare il giro delle farmacie per scovare quella di turno va bene spolliciate solo 121 pollici in su maledetti ho fatto anche lista di exchange le chiavi dei wallet i vision 3 files passano su chiavette sì però i tuoi ready sanno usare le chiavette vero? per sapere quando inviati la mail non lo so quando farò la prossima analisi di portafoglio può darsi prestino adesso ne ho un programma a due con mister rip se mi vuole ancora penso di sì mi ha scritto qualcosa? no non mi ha scritto quindi però mandameli io l'accumulo adesso le accumulo sono tossici hamburger sì ma dopo ho parlato ho proposto 2000 calorie e ho parlato così tanto puoi andare a Venezia in barca? no non posso la barca sta sul lago di Garda dovrei scendere il mincio e risalire arrivare risalire l'adriatico sì poi la mia barca secondo me in mare affonda quando si compila il quad rw doppio il fatto che Antonio abbia scritto quando si compila il quad rw doppio mi fa pensare che anche lui detta al cellulare ho almeno 20k di carte magic ah devi dichiarare le sue rw doppie le carte magic non lo sapevi? rw doppio se non devi pagare niente è entro novembre se devi pagare qualcosa hai ancora due giorni di tempo ho visto le foto hai visto le foto della cassetta? oddio le foto della cassetta non ho capito comunque ah de giro ok si può mandare il portafoglio quando ci pare sì più o meno sì no la live non è a giorni prestabiliti è quando mi gira a me se sono mangiati il panino sì vediamo altre domande per investire solo 1000 euro in bitcoin e cripto consiglio un etf di cripto per evitare di fare la dichiarazione dei redditi sì esce il video domenica in cui elenco tutti i possibili svantaggi e drammi dell'etf cripto e tutti i possibili svantaggi e drammi avere le cripto vere quindi elenco comparono le due quasi sempre vi converrà l'etf in cripto anche perché compensa pure le minusvalenze ripropongo la domanda di prima cosa ne pensi di etf rate non mi era sfuggito semplicemente avevo già risposto prima qualcun altro l'ha fatta io ho il seguente dilemma io gestivo un paio di casi in affitto le gestivo impegnandomi e mi rendevano poco allora mi dico se io gestendoli impegnandomi rendono poco allora mi spiegate perché deve passare uno suonando il clacson per via l'Europa nella civilissima Bolzano di sera perché qui è già notte fonda e sì se questi immobili mi rendevano poco il 6% impegnandomi un rate dove il gestore magari è più professionale di me ma non è che si impegna quanto me perché non sono soldi suoi quindi mi sono sempre posto questo dubbio però penso che li metterò in portafoglio per diversificare ulteriormente a quando live aggiornamento fa l'excel btp ecco potrebbe scapparci una live settimana prossima del titolo btp giugno ha pagato le cedole cosa facciamo adesso e la farò no più che una live un video o una live e la faccio ve lo dico chiaramente soltanto perché la guardo un mucchio di persone e a me io incasso 100 euro proprio per un bieco tornaconto economico per le crypto gli ereditano il costo di carico all'altra successione come per i titoli in teoria sì se tu le metti nella dichiarazione di successione il che implica che sono finite le quadre euro doppie perché sennò dove saltano fuori queste crypto quindi secondo me messe nella dichiarazione di successione con il valore di quel momento del momento del decesso gli eredi le ereditano ci devono pagare le tasse se sono dovute ma di solito no e quindi poi hanno anche una dimostrazione che sono state acquisite in quel momento a quel prezzo ottimo quindi crypto alla nonna e hai terminato le analisi e capo ho iniziato sono le 10 ho iniziato due ore e mezza fa sì direi di sì e ti vedo mi slinka la foto che ho fatto al volo del carcassonne accidenti gestione immobiliare un business con un po' scala è vero hai ragione scala perché quando hai bisogno dell'idraulico ne hai uno che ti fa tutti gli appartamenti si scala è vero quello senza dubbio infatti infatti i rate li metterò dentro dai era un napoletano che festeggiava lo scudetto può essere è vero però era un clacson di motorino e allora mi dicono che mi ha messo lì ah ma il link secondo me youtube me l'ha falciato ah ma me l'hai mandato per email vediamo la mia email non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho niente niente link su carcassonne di legno bene direi che posso salutarvi qui il panino possibile adesso mi la metto questo panino qui stiamo aspettandolo arriva o non arriva io non ho più portafogli analizziamo un portafogli a caso dai sto sperando il panino tra l'altro se suona io non sento ok il mio è messo dei panini adesso guardo una mail a caso di quelli che mi ha scritto vediamo il primo che mi ha scritto dai ah c'è oddio che lungo che lungo vabbè ce la guardiamo così d'amblè ok come viene viene a rischio speriamo non abbia messo parolacce nella mail e speriamo non abbia messo robe personali buonasera grazie gli etf li ho scelto spavigliando un po' qua un po' la ma evitando di investire in america latina e africa male sulla cina mi tengo a essere esposto ok quindi ha una visione macroeconomica sua ok condizioni del contorno giovane 30 anni impiegato su story t cash flow intorno a 6.000 non sono previste spese future liquidità bassa devo dire bassa 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 questa liquidità ti si spacca la macchina soccassi vabbè un cash flow però intorno a 6.000 euro quindi non ho in programma ok basta sto zitto non ho in programma un acquisto di auto ho due domande acquisto 100 quote ci fa delle domande acquisto 100 quote di un etf a 25 euro per unità ok altre 100 ok mi serve un 2000 euro ah ok e allora se sei in regime amministrato come penso la banca sempre fa il prezzo medio quindi ti calcolerai il prezzo medio che nel tuo caso è una media tra 50 e 25 che al momento non riesco a calcolare sarà 37.5 è laurea in matematica e dottorato in matematica quindi 37.5 la media controlliamo perché non vuoi sparare cavolate 37.5 è capo laurea in matematica mica in realtà questo me lo ricordo dal corso di laurea in fisica dove sti conti li facevi e quindi quota vendi a 40 e tu la tua plus valenza la fai su 37.5 quindi se invece vai in regime dichiarativo si applica il LIFO anche se ho letto da qualche parte che per gli etf in regime dichiarativo si applica comunque il prezzo medio difficile fatico a crederci però potrebbe essere comunque tu sarai in regime amministrato quindi si applica sempre il prezzo medio di carico soldi alla tua versione di fronte alle obbligazioni call ma se quotan 100 però è call ok ci sono i possibili rischi di acquistare oggi xzzz ok tu acquisti xzzz ok i tassi salgono e te la lasciano i tassi scendono e te la collano e quindi tu ti trovi a dover reinvestire a tassi più bassi cioè ok questo è prezzato cioè nel senso che non a caso quelle che hanno l'opzione call rendono di più però secondo me comprate quelle che hanno l'opzione call se siete convinti che i tassi scendano aspettate sì perché non ve la tolva è uguale perché se i tassi scendono rimanete comunque un pelino no avete aspettate no no ritiro cancella tutto se i tassi scendono ti esercitano la call e quindi ciao vediamo qui la chat cosa dice la chat nel frattempo non mangerai mai il clacson era per il suttirole in serie A il suttirole è andato veramente in serie A non ci credo sento dei rumori ok e mi ritroverò 5k ok comunque va bene e niente queste sono le mie considerazioni la call cioè nelle due opzioni quando va bene c'è fagato è arrivato il panino facciamolo vedere e quindi mi devo formare qui eccolo qui ok è arrivato il panino ci si ferma e ah c'è il foglio excel vediamo apriamo solo il suo foglio excel ok apriamolo cavoli tuoi se ci hai messo il nome ok no non ci ha messo il nome vediamo cos'ha obbligazioni BTP Italia maggio 26 T-Bond al solito questo T-Bond è un investimento nei dollari più che nell'obbligazione stessa è vero che rende 6,25 ma il dollaro oscilla di più o meno 15 quindi un investimento un terzo nel 6,25 che è comunque garantito e un due terzi nei dollari ok etf vediamo cosa passa il convento beh emittente lo cambia l'indice Japan standard vediamo quant'è anche però possiamo vedere ah è ok nascondiamo tutta sta botta di 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 colonne no forse non tutte hide ok Japan standard and pull standard and pull sono tutti più o meno sui 3000 aerostox aerostox ha proprio cioè spero che tu non paghi le commissioni d'acquisto perché questi due e questi due sì no 3000 3000 ci sta 2000 2000 già meno io small cap ce l'avevo anch'io speravo che rendesse più del large cap invece no emerging market develop e descrude in japan stock small cap anche tu come me segui la storia sono la distribuzione ma forse perché non hai trovato l'equivalente csi 300 non mi ricordo cos'era è china forse nasdaq emerging markets sì ah commissioni zero che te frega usi bonus di direct alle dividendi percepiti va bene rp lo grt oddio che ah sì un rp lo grtf perché non avevo mai visto un foglio excel fatto così ah cioè tu vai a guardare cosa hanno dentro mazza ti as quanto chiedi di percentuale per gestire il mio portafoglio se mi vai a guardare cosa hanno dentro gli etf ok e direi che il panino comanda che è ora di fermarsi qui come faccio giustamente simone chiede come faccio a sapere il programma delle tue live e pizze allora beh se faccio una pizzata lo annuncio con un post un community post su su youtube e lo annuncio anche su instagram e è facile trovarmi su instagram se faccio una pizzata se faccio una live eh arriva l'avviso su youtube io non voglio mandare gli avvisi giorni prima perché una delle cose che a me fa incacchiare è quando un canale a cui sono iscritto mi annuncia la live tre giorni prima io clicco dico adesso mi guardo questo bel video no è una live che fa un altro tre giorni che palle quindi io sono molto restito annunciare le live troppo prima di solito le annuncio un giorno prima ma anche meno quindi è programmazione inesistente anch'io guardo e controllo che sento i miei tf bravo e io purtroppo no ti metto la foto poi nei commenti va bene grazie per Giorgio saluti a tutti mangio il la scritta recita non so cosa c'è scritto chissà cosa sarà ciao ciao and the stream non so cosa c'è